Questa è l'inizio. Come ho detto stiamo ancora aspettando alcune delegazioni ma vedo che siamo già pronti per cominciare. Prima di dire alcune parole abbiamo un video di saluto che chiederei a Bigio di mandare dal compagno Alan Woods, dirigente e teorico della nostra internazionale. Dear comrades, on behalf of the International Secretariat of the whole International, I wish to express my best wishes for the founding of the Revolutionary Communist Party of Italy, which is taking place at a critical moment in the history of the class struggle on a world scale. Wherever you look it's clear, is it not, that none of the problems facing the working class and the youth can be solved under the capitalist system. This is the fundamental fact which we must grasp. And the present situation in Italy provides ample proof of this, there's no need for me to explain it to you, you know much better than I do, that the reformists provide no alternative to the workers and youth who are looking for a fundamental change in society. Their policies only serve to confuse, disorient and disappoint the masses, preparing the way for right-wing reaction. Only a genuine Communist Party can offer a serious alternative, but such a party, as you know, in Italy today no longer exists. It's only in our ideas and our organisation and our programme which correspond fully with the objective requirements of the working class of Italy and of the rest of Europe and the world. And therefore we can be confident that on the basis of experience we will gain an ever-growing echo among the most radical elements, first of all of the youth and then the working class in general. However comrades, the first condition for our success is that that we must have the courage to stand firmly against the stream and to defend a clearly revolutionary and communist programme. That revolutionary firmness is the prior condition for our future success. And we must stick to our course and not look for non-existent shortcuts that can only lead to the swamp of opportunism. Now I am sure on the basis of experience, systematic, patient and determined work, the new party in Italy will soon grow into a significant force, which will be an inspiration to the working class of the world and of the entire international. And therefore, with best wishes for the success of your launch in Italy, I send you my warmest revolutionary greetings. Comrades, long live the revolutionary Communist Party of Italy. Long live the international. Workers of the world unite. floor. Of course Allora, siccome non tutti ci conosciamo, mi presento, io sono Claudio Bellotti dell'esecutivo nazionale del PCR e ho l'inconvenza di moderare questa riunione, dirò anche alcune note, alcune parole di apertura, e mi aiuteranno il compagno Francesco Gigliani, responsabile della nostra sezione di Modena, e Arianna Mancini della sezione di Roma. Di nuovo benvenuti a tutti. Oggi noi presentiamo le ragioni di un partito che è un partito nuovo, ma è anche molto antico. Le ragioni vuol dire le idee, il programma, gli scopi, ma anche una realtà militante, perché l'impresa che oggi lanciamo ha delle fondamenta che abbiamo costruito lungo parecchi anni di lavoro. Non siamo di quelli che si presentano un giorno dal nulla, dicono seguiteci, siamo nuovi, siamo immacolati e facciamo miracoli, perché ci pare che di demagoghi in giro per l'Italia e per il mondo ce ne siano già a sufficienza, no. La nostra organizzazione ha radici molto salde e chiunque di voi le conosce può conoscere, può studiarle e darne un giudizio. Queste radici sono innanzitutto in un patrimonio teorico inestimabile della teoria marxista per come è stata sviluppata innanzitutto a partire dagli stessi Marx ed Engels ormai per quasi due secoli. E noi ci riconosciamo pienamente in quelle idee, idee che hanno spiegato in modo impareggiabile, anche delle più avanzate teorie espresse dalla classe dominante, hanno spiegato le contraddizioni insolubili di questo sistema, le sue crisi, le sue guerre. E ci riconosciamo allo stesso modo anche nel patrimonio organizzativo, nella storia delle internazionali operaie, dalla prima internazionale appunto di Marx ed Engels fino ai primi congressi dell'internazionale comunista, alla lotta di Trotsky e dell'opposizione internazionale di sinistra contro la degenerazione stalinista. Queste sono le radici che ci danno la forza per l'impresa a cui oggi ci stiamo accingendo. Oggi io adesso non ho il compito di fare una relazione politica, ma credo che sia sufficiente guardarci attorno per vedere l'abisso, l'autentico abisso nel quale la borghesia sta precipitando l'umanità. Tutte le conquiste sociali del passato sono attaccate, sono messe a rischio o sono già state cancellate. Tutti i progressi tecnici, i progressi scientifici vengono messi al servizio dello sfruttamento, dell'oppressione, della guerra. Crolla il mito del progresso del capitalismo, crolla su se stesso nella realtà materiale di queste crisi economiche, dell'inflazione diffusa, di nuove generazioni costrette a vivere peggio dei loro genitori e dei loro nonni, in una spirale di precarietà, di sfruttamento, di autoritarismo, di discriminazioni, di degrado sociale, perfino culturale, mi verrebbe da dire. E con questo mito del progresso crollano anche i progressisti, naturalmente, vanno in crisi. I cosiddetti rappresentanti democratici del capitale, che sempre più spesso lasciano il passo a governanti partiti apertamente reazionari, guerra fondai, razzisti, classisti. La classe dominante ci sta mostrando oggi la sua faccia peggiore. Sdogana, i Trump, i Milei, le Le Pen, vabbè, abbiamo anche la Meloni, diciamo, i prodotti locali. Le guerre che insanguinano la Palestina, il Libano, tutto il Medio Oriente, l'Ucraina, l'Africa, sono le manifestazioni più brutali di questa crisi. I blocchi imperialistici si scontrano con i mezzi cosiddetti pacifici, dei dazi doganali, del protezionismo, delle sanzioni, che comunque paghiamo e stiamo pagando tutti noi, e a volte si scontrano anche con le armi alla mano, sia pure per interposta persona. Tutti non fanno che parlare di riarmo, una spirale senza fondo. E dunque l'alternativa per noi oggi è o subire o ribellarci. È un'alternativa molto netta ed è per questo che noi oggi abbiamo intrapreso questo passo. L'altra nostra radice indistruttibile è nell'internazionale. Il Partito Comunista Rivoluzionario non è un prodotto a chilometro zero puramente locale. Siamo parte di un movimento e di un'organizzazione che si estende in tutto il mondo, compagni e compagni. Ed è per questo che oggi, con grandissimo piacere, diamo qui il benvenuto ai compagni Rob Sewell e Fred Weston della Segreteria Internazionale dell'Internazionale Comunista Rivoluzionario. E i compagni naturalmente daranno un contributo a questa Assemblea nel corso degli interventi. Come ho detto, le nostre radici vanno indietro nel tempo, ma al tempo stesso siamo anche un partito effettivamente nuovo. La nostra scelta di costituirci come partito ha un significato preciso. E cioè noi vogliamo prenderci apertamente la responsabilità di dare una risposta che non sia solo di idee, di critica di questo sistema, ma anche una risposta pratica. Ossia di costruire quello strumento, il partito appunto, che renda possibile il superamento, no, il rovesciamento di questo sistema. Un partito che sia strumento per i lavoratori più consapevoli, per i giovani più militanti, dove trovare le idee, dove trovare la formazione politica, dove trovare un'azione collettiva e che possa essere un lievito nei movimenti che ci sono e ancora di più in quelli che ci saranno. Partito Comunista Rivoluzionario direi che è un nome che ha un significato inequivocabile e preciso. E lanciare un partito con questo nome in Italia significa confrontarci innanzitutto con la storia del comunismo, appunto non solo nel mondo, ma anche in questo Paese. Un Paese in cui il comunismo è stato una bandiera, capace di infiammare le aspirazioni di milioni di persone per diverse generazioni. E dove proprio per questa dimensione di massa storica che ha avuto, il rinnegamento del comunismo è stato particolarmente profondo e doloroso. Siamo dopo tutto un Paese in cui non uno, ma due partiti comunisti sono crollati dopo essere stati investiti da grandissime speranze. Mi riferisco in anni recenti al Partito della Rifondazione Comunista e ovviamente al Partito Comunista italiano e potremmo anche parlare di altre esperienze importanti, per esempio negli anni settanta. Su questo punto noi vogliamo essere chiarissimi, compagni. Noi non ci proponiamo di ricostruire alcuno di questi partiti. Ci proponiamo di conoscere la storia, sicuramente per il rispetto che noi dobbiamo a generazioni di militanti che in quei partiti hanno dato l'impegno, a volte hanno dato la vita, in una lotta disinteressata e generosa per una società migliore e più giusta, per una società socialista. Ma soprattutto dobbiamo conoscerli per apprendere, perché quelle sono esperienze storiche acquisite a caro prezzo. Insomma, se in Italia siamo passati dal Partito Comunista italiano al PD, la nostra risposta non è e non può essere quella di provare a riavvolgere all'indietro il film. Deve essere invece quella di costruire facendo tesoro di queste lezioni. Permettetemi una piccola osservazione personale. Una delle prime assemblee politiche a cui sono stato, circa una quarantina d'anni fa, era un'assemblea sul Sudafrica, in solidarietà con la lotta contro la parta ed in Sudafrica. Esattamente come oggi un ragazzo o una ragazza può andare a una manifestazione, un'assemblea in solidarietà con la Palestina. Volevo lottare contro l'ingiustizia, contro chi era complice dell'ingiustizia. Però in quel momento io, come tanti altri, potevo iscrivermi a un'organizzazione che era la Federazione Giovanile Comunista, che aveva circa 50.000 iscritti e che peraltro era la giovanile di un partito, il PC, che ancora aveva ben oltre un milione di iscritti, circa un milione e 300.000. Dunque potevo sentirmi parte di una forza capillare, capace di arrivare ovunque, apparentemente uno strumento sicuro per la lotta contro questo sistema. Eppure quella forza era una forza ingannevole. Infatti pochi anni dopo si è ridotto a un nulla. Il nome di comunista non corrispondeva più alla realtà e da tempo la sua politica, la politica dei suoi dirigenti era una politica ormai riformista. Noi oggi lanciamo un partito e non abbiamo alle spalle una forza di massa come quella. Quella è stata dissipata. Però dialetticamente è stato dissipato anche un grande equivoco. E oggi quell'equivoco non è più un ostacolo alla costruzione di un partito comunista nel quale le idee, la pratica, il programma e le azioni siano coerenti con il fine rivoluzionario. Per decenni abbiamo condotto in Italia e nel mondo una battaglia rigorosa per ripulire le idee e per applicare anche le idee del marxismo autentico, libere da ogni degenerazione riformista e soprattutto dalla degenerazione stalinista che le trasformò in una caricatura tragica. Lo abbiamo fatto nel mondo come tendenza marxista internazionale, lo abbiamo fatto in Italia per tanti anni come sinistra classe rivoluzione, prima ancora come corrente politica partecipando al dibattito, allo scontro politico anche in altri partiti come fu rifondazione comunista, prima ancora anche gli ultimi anni del PC. Questo percorso che abbiamo fatto ci lascia un distillato di idee, di esperienze e anche una realtà organizzata militante che, lo dico senza nascondermi dietro un dito, sappiamo non essere di massa ma a pochi uguali in questo Paese, forse nessuno. Ebbene, oggi noi sapremo trasformare la qualità di queste idee, la qualità di queste centinaia di compagni e compagni che già si sono uniti alla nostra battaglia e trasformare questa qualità in una quantità superiore, in una forza capace di radicarsi nelle fabbriche, nelle aziende, nelle scuole, nell'università, nei quartieri, nei movimenti. Un partito dove si milita con il cuore e con la testa, con la rabbia contro ogni ingiustizia, contro ogni oppressione e con le idee per illuminare la strada su cui oggi ci stiamo incamminando. Compagni, io l'ho già fatta fin troppo lunga e pertanto senza ulteriori indugi. Chiamo il compagno Alessandro Giardiello a fare l'intervento introduttivo e la relazione di questa Assemblea. Buon lavoro a tutti. Dopo Ale interverrà Jacopo Renda. Compagni e compagni, un partito è in primo luogo un programma. Il nostro parte da una riflessione basilare. Marx ha detto che nel capitalismo la produzione è sociale ma l'appropriazione è privata. È il lavoro che crea ricchezza. Ma questa ricchezza poi rimane concentrata in poche mani. Espropriare le ricchezze del capitale finanziario, nazionalizzare i monopoli e le grandi aziende è semplicemente restituire il maltolto. Quelle ricchezze sono state create dal lavoro umano ma a beneficiarne sono meno dell'1% della popolazione. Tanto è vero che il reddito di otto persone equivale a quello della metà della popolazione mondiale. E questo è inaccettabile. Togliendo di mezzo il profitto di un pugno di capitalisti potremo garantire molte cose. Un lavoro per tutti. Il vecchio slogan, lavorare meno, lavorare tutti. Ridurre la settimana lavorativa della metà, forse di più. Lo permette l'enorme crescita della produttività. Se questa naturalmente non finisse tutta nei profitti. Un aumento consistente dei salari. Una nuova scala mobile. Che protegga i lavoratori dall'inflazione. Basta con il lavoro povero e la precarietà. Bandire la povertà e la fame nel mondo. Evitare che milioni di persone siano costrette a scegliere tra morire di fame o morire annegati nel Mediterraneo o nel Rio Grande. Garantire un'istruzione, un'assistenza sanitaria pubblica, gratuita e di qualità per tutti. Negli Stati Uniti ci sono 50 milioni di persone che non hanno un'assicurazione sanitaria. In Italia il degrado della sanità pubblica è sotto gli occhi di tutti. Basta entrare in un pronto soccorso per saperlo che che ne dica la Meloni. Cinque milioni di persone in questo Paese hanno smesso di curarsi perché non se lo possono permettere. Liberare il pianeta dall'oppressione e dalle guerre. Garantire i pieni diritti democratici su scala planetaria, a prescindere dal colore della pelle, l'etnia, la religione, il genere e gli orientamenti sessuali. Ultimo. Last but not least. Anch'io parlo un po' d'inglese. Salvare un pianeta malato, sempre più malato, gravemente, solo abolendo la proprietà privata dei mezzi di produzione si può uscire dal fossile e dalle energie inquinanti. Il nostro partito, compagni, è la risposta alla bancarotta del riformismo. Trovo emblematico che nel mezzo della pandemia, nel centesimo anniversario della nascita del Partito Comunista d'Italia di Gramsci e Bordiga, l'ex segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti ha rilasciato un'intervista alla Sette nella quale diceva, la citazione ve la faccio letterale, bisognerebbe vietare per una decina d'anni, forse venti, l'uso in politica del termine comunista come definitorio di un soggetto. Un secolo grande e terribile è finito. Finiscono i comunisti. Sei finito tu Bertinotti, non i comunisti. I comunisti sono qua. E in tutte le lotte che si sviluppano in questo Paese ci sono i comunisti. Al di fuori di qua. Ce li ricordiamo quelli che in rifondazione pendevano dalle tue labbra. Oggi sono diventati i satelliti del Partito Democratico. Hai contribuito con altri a dirapidare un grande capitale politico. Se oggi la meloni al governo è perché non c'è stata in trent'anni un'opposizione di sinistra degna di questo nome. Prodi, Monti, Letta, Renzi, Draghi, tutti quei borghesi liberali che hanno governato questo Paese con il sostegno del PD di sinistra italiana e anche di rifondazione comunista fino a quando ha avuto un gruppo parlamentare. Il PD della Schlein anche oggi che ha l'opposizione condivide il programma delle destre sui punti fondamentali politica internazionale, guerra, politica economica. La linea di confindustria che oggi viene difesa da Meloni e Giorgetti, altro che tassare i superprofitti, questa barzelletta che ci hanno raccontato. Hanno chiesto un prestito l'anno scorso, gli hanno permesso di metterli nelle riserve, lasciamo perdere. Però il PD li critica sulle virgole, ma mai sui punti fondamentali. Naturalmente ci sono responsabilità più grandi. In chi ha preceduto Bertinotti lo accennava Claudio. Oggi c'è un film che fa molto discutere, La grande ambizione, su Enrico Berlinguer. Un dirigente comunista molto amato. Mio padre e mio nonno lo amavano. Milioni di proletari lo hanno amato. Ma ciò non di meno è stato il segretario del PC che ha difeso il compromesso storico, le politiche di austerità, il sostegno al monocolore Andreotti nel 78, l'adesione al cosiddetto ombrello della Nato e l'abbandono di una prospettiva rivoluzionaria come già togliati prima di lui. La famosa frase di Berlinguer sull'esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre non l'abbiamo mai condivisa e non la condivideremo mai. La rivoluzione d'ottobre era e resta il più grande avvenimento della storia e continuerà ad ispirare milioni di proletari. Quella rivoluzione vive in noi e in decine e centinaia di migliaia di compagni che non hanno smesso di lottare, di crederci e che si battono per quella prospettiva. Fino a quando nella società regnerà l'oppressione, ci sarà uno schiavo, un paria, un proletario, finché esisterà la divisione in classi ci sarà sempre un ribelle che proverà a spezzare le sue catene. Siamo il partito di chi non ci sta, di chi è incapace di adeguarsi al sistema. Siamo il partito di quelli che godono quando c'è uno sciopero. La nostra allegria si deve al fatto che finalmente i lavoratori escono dall'allineazione quotidiana e iniziano a parlare. Le relazioni sociali migliorano e la senofobia lascia il campo alla solidarietà. Questi sono i miracoli della lotta di classe. Per lavorare c'è sempre tempo. Non si è mai lavorato così tanto nella storia dell'umanità come si lavora nel capitalismo. Siamo il partito della rivoluzione che non è un atto violento, ma un atto d'amore che ci libera dalla violenza di un sistema che non se ne andrà senza combattere. I borghesi celebrano le loro rivoluzioni, come la rivoluzione francese, il cui simbolo è la ghigliottina, lo sappiamo tutti. Altro che violente che sono state. Impariamo noi a celebrare le nostre, ma soprattutto ad imparare da esse. Il sistema ci spinge alla rassegnazione, a porgere l'altra guancia, a toglierci il cappello di fronte al padrone. La Chiesa svolge un ruolo fondamentale in questo. Abbiamo visto le recenti parole del Papa sull'aborto, donne criminali le ha chiamate, medici abortisti criminali. Lasciatevi esprimere alcune parole liberatorie. Io non ne posso più di questa sinistra papista che c'è in Italia. Non ne posso più. Che mette vergoglio a riferimento positivo. E perché? Perché parla della pace dei poveri del mondo, ma per favore. Non dimentichiamo che il Vaticano è tra le poche monarchie assolute che esistono ancora al mondo. Una monarchia teocratica. E oltre al ruolo reazionario sul piano sociale, è anche un segmento della classe dominante, della borghesia a livello mondiale. Il patrimonio immobiliare della Chiesa è stimato in 2.000 miliardi di euro. Ed è una stima al difetto. In difetto. Solo a Roma un quarto degli alberghi sono posseduti dalla Chiesa. Ed è l'organizzazione patriarcale per antonomasia, dominata da uomini ottantenni. Guardiamo invece al ruolo sociale che ha svolto il nostro partito di riferimento, il partito bolshevico. Hanno formato il primo governo con una donna, Alessandra Kollontai, e un uomo sessuale dichiarato, il compagno Cicerin. Ma ancora più importante, per primi hanno garantito il diritto al divorzio, 1917, all'aborto, 1920, e abrogato le leggi discriminatorie contro gli omosessuali, 1922. Noi siamo il partito della lotta al patriarcato, che si oppone all'omotransfobia e ad ogni tipo di discriminazione sessuale. Un'altra frase liberatoria. Fuori il governo ai preti dalle nostre camere da letto. Ma siamo anche il partito che si oppone alle logiche separatiste del femminismo liberale e alle politiche intersezionali. Perché noi siamo per l'unità della classe. Il PCR ha una fiducia incrollabile nella classe operaia. Siamo un partito di lotta e di opposizione che dice ai lavoratori quello che fa e fa quello che dice. Come scritto nell'appello che diffondiamo nei luoghi di lavoro. Nella mia attività di militante sono stato a diffondere nell'appello in varie realtà dell'Interland milanese, dove vivo. Amazon, Electrolux di Solaro, Pirelli di Bollate, UPS, dove abbiamo una cellula molto attiva. E la reazione dei lavoratori è in generale positiva. Qualcuno ci ha accolto col pugno alzato. Diversi con... Ma quando si sciopera? Cosa aspetta il sindacato? Qualcuno al sindacato non crede più. Ma è comunque interessato a un partito autenticamente operaio e rivoluzionario. In generale un buon clima accompagni molta rabbia che cova sotto la superficie. I lavoratori hanno voglia di parlare ed è un segno. Non è stato sempre così. Finalmente, venerdì, avremo il tanto atteso sciopero generale. I nostri compagni nel sindacato lo chiedevano da tempo e naturalmente saremo impegnati in prima linea, con i nostri militanti e i nostri delegati, perché questo sciopero sia un grande successo. Il più esteso e il più partecipato possibile. Ma detto questo, deve essere chiaro che uno sciopero di otto ore, annunciato da più di un mese, non reca grave danno alla classe dominante e al suo governo. Servirebbe ben altro per piegarli. Serve una vera e propria rivolta sociale. Chi l'ha detto? L'ha detto Landini, grazie per il suggerimento. Giusto, compagno? Servirebbe questo, certo. Le parole sono importanti, caro Landini, perché se si tratta di una frase ad effetto per i giornalisti, il giorno dopo saremo messi peggio di prima. Se vogliamo mettere un po' di sostanza dietro a questa affermazione, serve un piano di azione, di lotte più dure e più radicali. Vogliamo apprendere da quanto abbiamo visto recentemente in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, non proprio paesi storicamente all'avanguardia della lotta di classe. Ce ne parlerà il compagno Rob Sewell. Lotte ad oltranza come quella dei ferrovieri britannici o dei lavoratori della Boeing negli Stati Uniti. Lotte articolate come quelle adottate dai lavoratori di General Motors, Ford e Stellantis. Le chiamano stand-up strike, che in italiano vuol dire scioperi a singhiozzo. Molto efficaci con il just in time e l'assenza di magazzini. In Italia negli anni settanta li chiamavano scioperi a scacchiera, a gatto selvaggio. Scioperi senza preavviso, articolati, senza clausole di raffreddamento, fasce garantite e prolungate, senza rispettare le pretestuose precettazioni di un Salvini qualunque. L'anno scorso la CGL si è umiliata. Quest'anno accetterà le precettazioni annunciate nel trasporto pubblico, sanità e scuola. Vedremo. Abbiamo bisogno di scioperi che colpiscono a fondo. C'è bisogno, come l'aria, di un limpido e cristallino scontro di classe. I lavoratori sono pronti. Sono pronti ma solo se c'è la volontà di andare fino in fondo. Non per farci una passeggiata a Piazza San Giovanni. Dobbiamo fermarci una settimana, un mese, ad oltranza. Quante volte ce lo siamo sentiti dire davanti ai cancelli? Non è solo un problema di forme di lotta, c'è un problema più generale di strategia. I dirigenti della CGL sono andati dal Governo a dire che bisogna allargare i cordoni della borsa. Ma di quale borsa stiamo parlando? Quella dello Stato? Li vogliamo solo dallo Stato i soldi? Con un debito pubblico che ha raggiunto i 3.000 miliardi di euro? Quel debito alla fin fine lo faranno pagare a noi, con nuovi tagli e politiche di austerità. I soldi della Fiscalità Generale vengono all'82% dalle tasche dei lavoratori e dei pensionati. Così da una parte li prendiamo e dall'altra glieli ridiamo. E prenderli dalle tasche dei padroni? Non sarebbe una buona idea. Vedere Tavare spiangere miseria chiedendo più incentivi statali è imbarazzante. hanno fatto profitti per 18 miliardi di euro nel 23, per giunta non pagano le tasse né in Italia né in Francia perché hanno la sede legale in Olanda e non solo loro. Luxottica, Ferrero, Cementir, Mediaset, Ferrari, Brembo e persino Enel e Deni che sono aziende pubbliche hanno la loro sede legale in Olanda e ci vengono a parlare del Made in Italy. Mandate al diavolo! Ma che coraggio che avete! Può esistere un sistema più parassitario del capitalismo. Se si studia come è stato creato il debito pubblico in questo paese ma in generale nel mondo si vedrà che è servito a foraggiare il grande capitale. Proprio per questo il nostro partito, il PCR, propone la cancellazione del debito che secondo la Banca d'Italia è solo per il 19% appannaggio delle famiglie, cioè il risparmio delle famiglie è solo il 19%. Il resto è controllato dalle banche e dai fondi di investimento che lucrano sul nostro sangue. I soldi delle famiglie li tuteliamo, quelli. Quelli delle banche e dei fondi speculativi no, per noi sono illegittimi. Nel 2008 siamo entrati in una profonda crisi di sistema, Marx la definiva crisi di sovrapproduzione. E c'è una crescente dipendenza degli Stati che si stanno indebitando ovunque, a un livello mai visto nella storia, per sostenere le aziende private e le banche. È una società basata sui debiti, una gigantesca catena di Sant'Antonio in cui gli unici a perdere sono i lavoratori e i giovani, che non hanno più un futuro, non in questo sistema. Un pugno di capitalisti è sempre più ricco e un'infinità di proletari precipitano nella povertà, anche nei Paesi cosiddetti avanzati, nonostante lavorino più dei loro padri e più dei loro nonni. In tutto il mondo le giornate di lavoro si stanno allungando e la parte del reddito che va al lavoro si è ridotta di almeno 20 punti percentuali negli ultimi 30 anni. La concentrazione del capitale ha generato monopoli e trust che van ben oltre il livello spiegato da Lenin nell'imperialismo. Secondo una fondazione svizzera, 419 imprese controllano l'economia mondiale e le sorti del mondo. Sono quelle che determinano le politiche degli Stati e, in definitiva, le nostre vite. Sono tornati gli scontri imperialisti, guerre sempre più sanguinose, contrariamente a quanto affermavano le teorie alla moda, post-operaiste che abbiamo sempre contestato. Sulla guerra in Ucraina il carattere interimperialista è fin troppo evidente. Diciamo una cosa molto chiara, richiamandoci a un grande rivoluzionario, Karl Ibnett, il nemico principale è in casa nostra. Questo vale per noi in Italia e in tutti i Paesi sono stati nato, ma vale anche per i comunisti in Ucraina, che devono opporsi al corrotto regime di Kiev, così come i comunisti russi contro Putin, anche se significa in quel Paese andare controcorrente, molto controcorrente. Abbiamo visto in Italia sedicenti comunisti schierarsi dalla parte di Putin. Altri, rivendicare l'invio delle armi alla cosiddetta resistenza ucraina. Bene, stanno arrivando i missili a lunga gittata, autorizzati da Biden. Sarete contenti, compagni, no? Ma quale resistenza ucraina? È un esercito di coscrizione. Ci sono migliaia di Ucraine che vogliono disertare, che vengono mandati al massacro con il vostro sostegno. Fortunatamente nessuno dà importanza a quello che dite. Noi abbiamo mantenuto la schiena dritta e difeso una politica di classe internazionalista, ma oggi la nostra attenzione si concentra sul Medio Oriente e le sofferenze del popolo palestinese. Israele, la più potente forza militare della zona, sta attuando un vero e proprio genocidio, massacrando uomini e donne e bambini. Ha invaso il Libano con il rischio concreto di un'estensione e allargamento del conflitto. Abbiamo partecipato alle manifestazioni organizzate dai palestinesi. Abbiamo sempre difeso e rivendicato il diritto alla resistenza del popolo palestinese. Ma la sproporzione di forze è oggettivamente troppo grande, compagni. Dietro lo Stato sionista c'è la forza dell'imperialismo occidentale, mentre i palestinesi sono stati traditi e abbandonati più volte dai regimi arabi, che in questi anni hanno fatto accordi con Israele sulla loro testa. La politica dei due popoli e due Stati avanzate dai riformisti è un fallimento totale. Non è solo la linea di Schlein e Fratoianni, è la linea di Biden, è la linea degli accordi di Oslo. L'unica prospettiva possibile è una Palestina laica e socialista all'interno di una federazione socialista del Medio Oriente, con il diritto di autodeterminazione per tutte le minoranze etniche e religiose. solo dalle masse viene la soluzione, una nuova primavera araba che vada fino in fondo questa volta. I governi imperialisti ipocriti, oltre che assassini, fingono di voler moderare il governo sionista, ma lo sostengono finanziariamente e lo riforniscono di armi fino ai denti. Meloni in testa. Voglio esprimere la solidarietà del nostro partito al compagno Mohamed Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia, denunciato dalla Digos con un procedimento di espulsione dal Paese, accusato di stigazione a delinquere. Ma di che reato si sarà mai macchiato, Mohamed? Ha chiamato al corteo di Milano a un applauso della piazza per i tifosi dell'Ajax. che hanno dato qualche cifone e fatto visitare i canali di Amsterdam a qualche tifoso del Maccabi della vita. La macchina della propaganda è stata pazzesca. Si è parlato di feroce antisemitismo, di caccia all'uomo, di pogrom, addirittura di una nuova notte dei cristalli. Andatevi a leggere i libri di storia che cosa è stata la notte dei cristalli. Ma quali sono i fatti? Secondo la polizia di Amsterdam, cinque ricoveri lievi, tutti dimessi quasi subito e in risposta 67 arresti, niente di meno. Fin dalla sera prima i supporti del Maccabi ci sono i video. Strappavano le bandiere palestinesi, attaccavano i taxi guidati dagli arabi e provocavano, urlando per le strade di Amsterdam, slogan genocidi e razzisti su Gaza. Com'era quello simpatico che cantavano? Perché non ci sono scuole a Gaza? Perché non ci sono più bambini? Poche ve ne hanno date! Poche! Naturalmente, compagni, sto parlando della partita che è finita 5 a 0, non sto istigando la violenza a nessuno. Ai palestinesi una cosa la voglio dire, ci batteremo sempre a fianco della vostra causa, denunciando con forza il nostro governo e quel farabù, no, sarebbe meglio dire quel democristiano di Crosetto. Sapete che era il responsabile della formazione nella DC nella prima Repubblica. La formazione nella DC a quell'epoca era come arricchirsi personalmente attraverso i poteri, funzionava più o meno in questo. Quest'uomo tra il 19 e il 21 è stato consigliere di Leonardo, la più grande fabbrica di armi, tra le più importanti che riforniscono armi a Israele. Ha guadagnato circa 2 milioni di euro, è stato capo di Hayad, che è l'associazione delle industrie di armi in Italia, hanno messo un lobbista delle armi a fare il ministro della difesa. Questa è la cifra di questo governo. Avete le mani sporche del sangue palestinese, 45 mila morti, 70 mila feriti, il 90% degli edifici distrutti a Gaza. E date dei criminali a dei ragazzi che a Bologna, meritoriamente, e c'eravamo anche noi, hanno manifestato contro una parata di fascisti che si richiamavano apertamente alle idee del duce e alla camicia nera. Ma che coraggio! Si chiama apologia di fascismo. Non è un'opinione, è un reato. E la polizia che fa li difende e prende ordini da loro. L'ho visto io nel telegiornale, l'ho denunciato a collettiva il sito della CGL. Prendevano ordini da questi personaggi. Il sindacato autonomo di polizia, SAP, ha dato dei criminali auspicando che non ci sia nei riguardi di questi violenti alcuna indulgenza politica e giudiziaria. Sono buoni questi del SAP. Hanno chiesto non indulgenza, ma immunità totale per gli assassini di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Carlo Giuliani, ma chiedono condanne pesanti per chi manifesta e tira un uovo o un pomodoro. Il loro ex segretario Tonelli, oggi un parlamentare della Lega, ha dichiarato che Cucchi è morto perché era un drogato e non per colpa della polizia. Peggio ha fatto il suo segretario federale, che ci ha definito zecche rosse. Come si fa a prendere sul serio un lacché che si mette la cravatta rossa per imitare Trump? Ma chi lo ascolta più? Forse sono tempi terribili, Salvini. Le onde arrivano e poi molto rapidamente ti ributtano giù. È successa la stessa cosa a Conte, a Renzi. Presto succederà anche a Lameloni. Nel tuo partito stanno già discutendo chi ti dovrà sostituire. Sei nelle sabbie mobile. Più ti agiti e più vai giù. Se qualcosa ci insegna l'esperienza degli Stati Uniti è che i personaggi come Trump, perché Marx diceva nel 18 primario la tragedia e la farsa. Della farsa abbiamo già parlato, adesso c'è la tragedia. Personaggi come Trump non si battono con le Kamala Harris, gli endorsement di qualche personaggio alto locato e le star di Hollywood. I democratici rappresentano un settore decisivo della classe dominante. Trump ne rappresenta un altro, magari minoritario, ma altrettanto importante. I lavoratori negli Stati Uniti sono rimasti senza un'alternativa di classe, non da oggi, contro l'inflazione a combattere la povertà dilagante. Sanders, Cortez, la Democratic Socialist Alliance, il Partito Comunista americano, i sindacati hanno battuto tutti in ritirata. Si sono allineati a Biden e alla Kamala, salvo i nostri compagni, i Comunist of America, che infatti crescono a passe di gigante. I lavoratori capiranno presto che il protezionismo non è la soluzione, presto se ne accorgeranno i lavoratori americani e Trump farà la fine di Bolsonaro e Milei. Il primo si è trovato con uno sciopero generale otto mesi dopo l'insediamento al governo, per l'altro sono bastate meno di otto settimane. E anche Meloni inizia a sentire il terreno scricchiolare sotto i piedi. E così arriva un bel decreto, decreto sicurezza, il 1660. Vi sentite forti ma avete i piedi di argilla. Non mi associo ai pianistei, ai riformisti, piccoloborghesi, sul fascismo alle porte. Non si cancella il movimento operaio e i movimenti giovanili con un decreto, infliggendo pene più dure. Non avete appreso nulla dalla storia. Come diceva sempre il compagno Ted Grant, nostro fondatore, non si accende una lampadina, non gira una ruota, non squilla un telefono senza la gentile concessione della classe lavoratrice. Non c'è niente, e dico niente, che può fermare la classe operaia quando è consapevole della sua forza. Ed è il ruolo che svolge nella società. Tutti i regimi e i governi decadenti pensano di fermare il cambiamento, di invertire la ruota della storia con l'uso della forza. Viviamo in un Paese che ha avuto vent'anni di dittatura fascista e, in regime di presunta democrazia, Scelba mandava i carri armati per le strade contro gli operai. Si assassinavano i manifestanti, come a Davola, a Reggio Emilia, alle stragi di Stato. Questo ha mai impedito ai lavoratori in Italia di lottare. L'ondata arriverà e arriverà presto, e salteranno tutti come birilli. Concludendo, compagni, un giorno, sarà un bel giorno radioso, e sono contento che sono arrivati i milanesi, adesso li vedono di fronte a me. C'erano 50 compagni su un treno che non arrivavano, per fortuna sono arrivati. Un giorno metteremo da parte questa messa in scena di parlamenti borghesi e formeremo un vero governo operaio, basato sui consigli, dove i lavoratori non si limitano a mettere una scheda in un urno ogni cinque anni, ma discutono e decidono nelle assemblee ad ogni livello. Si chiama democrazia consigliare, democrazia operaia. È la forma più alta di democrazia che la storia abbia mai conosciuto, come nella Comune di Parigi, come in Urso nei primi anni dopo la Rivoluzione. Dicevano Marx ed Engels nel manifesto, tremino le classi dominanti al pensiero di una rivoluzione comunista. I prolettari non hanno niente da perdere, che le loro catene hanno un mondo intero da guadagnare. Viva il PCR! Viva l'internazionale comunista rivoluzionaria! Prolettari di tutto il mondo, unitevi! Costruiamo un grande partito e la vittoria sarà nostra! Grazie Alessandro, sarà una lunga giornata, vedo. Allora, mentre Jacopo renda responsabile della sezione di Roma si avvicina, vi leggo i saluti di quella che forse è la sezione più importante che abbiamo in questo momento nel mondo, cioè la nostra sezione degli Stati Uniti d'America. Cari compagni, Revolutionary Communists of America mandano i loro saluti all'Assemblea del 2024 per il lancio del Partito Comunista Rivoluzionario. Il capitalismo mondiale è in una crisi terminale. Questa sta portando una vita più dura per la classe lavoratrice e grandi avvenimenti nel periodo recente dimostrano l'instabilità crescente sul piano sociale, economico e politico. Le elezioni in un Paese dopo l'altro dimostrano la polarizzazione. Questo è vero tanto per gli Stati Uniti come per l'Italia. C'è un'enorme rabbia nella classe operaia e fra i giovani, ma c'è anche un grande vuoto politico. La direzione dei sindacati non ha nessuna fiducia che i lavoratori possano gestire la società e tentano disperatamente di far sì che i lavoratori accettino i limiti di un sistema capitalista in declino. Il rapporto di forza in Italia e negli Stati Uniti e in tutto il mondo è in favore della classe lavoratrice. Quello di cui questa ha bisogno è un'autentica direzione comunista. I compagni italiani, insieme a tutta l'internazionale comunista rivoluzionaria, stanno costruendo la direzione che può porre fine all'incubo del capitalismo. L'Italia ha una lunga tradizione comunista e il partito comunista rivoluzionario saprà collegarsi con la parte migliore di questa eredità e usarla per costruire un partito di massa che possa guidare la classe lavoratrice. Costruire una direzione comunista non è mai stato né facile né rapido, ma i compagni italiani hanno fatto giganteschi progressi in questa direzione e la riunione del 2024 sarà un altro importante passo avanti verso un autentico futuro comunista. Firmato Revolutionary Communists of America, il compagno Trump Trottia. Parla Jacopo Renda e si prepara, l'intervento successivo è del compagno Franco Bavila. Abbiamo fatto un sacco di assemblee in questi anni, però da qua sopra oggi siete veramente bellissimi, siamo veramente bellissimi. In questi mesi di campagna per costruire il partito comunista rivoluzionario abbiamo incontrato migliaia di lavoratori e di giovani. Il sentimento prevalente che abbiamo incontrato è stato un sentimento di critica al sistema capitalista, ma anche di sfiducia profonda nelle istituzioni. Non mi riferisco solamente al Parlamento, al Governo o alle forze dell'ordine che ci ricordano spesso la loro natura. Mi è capitato alla manifestazione degli studenti la scorsa settimana di vedere un adolescente di 15 anni che manifestava per la scuola pubblica piangere perché un gruppo di poliziotti l'aveva cerchiata e l'aveva spintonata. Ma una sfiducia profonda anche nei confronti di istituzioni come l'università, che non ha avuto il coraggio di rompere la sua collaborazione con Israele e con le industrie militari italiane che hanno le mani sporche di sangue, che non è stata in grado di dire una parola chiara contro il genocidio che si compie in queste ore in Medio Oriente e in particolar modo a Gaza. Ma non sono meno screditate la sinistra riformista e il sindacato stesso, che non sono in grado di fare nulla oltre a qualche dichiarazione di sostanza. Rimangono immobili di fronte alle critiche, di fronte agli attacchi della destra. Ma tra un settore che credo che è quello più interessante, questa sfiducia è già diventata rabbia e voglia di lottare contro questo sistema. In questo contesto il Partito Comunista Rivoluzionario crescerà e si radicherà. I lavoratori sono stanchi di essere in una condizione nella quale subiscono sul luogo di lavoro, sono costretti a elemosinare per poter andare in bagno e poi, a parte qualche dichiarazione di sostanza, non si fa nulla. Per la burocrazia sindacale non è mai il momento di lottare, non è mai il momento di andare allo sconto, non è mai il momento di mobilitare la forza operaia. Ma c'è da dire che sentiamo anche una ricerca di tornare alle tradizioni del comunismo rivoluzionario in Italia. C'è una lunga tradizione nel nostro Paese da questo punto di vista. E devo dire che abbiamo incontrato tanti che ci dicevano se per Salvini quelli che scioperano sono comunisti, se per il Ministro Valditara quelli che lottano contro la scuola di classe, la repressione a scuola sono comunisti, se i ragazzi che sfidano le manifestazioni neofasciste sono comunisti, allora forse dobbiamo andare alla radice, a cercare queste idee e a cercare uno strumento per organizzarci. Questo strumento per noi è il partito che lanciamo oggi. La decisione di chiamarci comunisti rivoluzionari non è una decisione casuale. Come affermava l'internazionale comunista di Lenin e Trotsky, non è soltanto una questione formale, ma è una questione squisitamente politica e di grande importanza. E questa differenza per noi deve essere molto chiara. Tra i riformisti che hanno scelto l'orizzonte del capitalismo dal volto umano, questa sì una vera utopia e quei cosiddetti comunisti che quando arriva il momento decisivo sono sempre pronti a capitolare, a capitolare di fronte alla borghesia, sia la borghesia italiana, quella russa, quella cinese o quella iraniana. Noi invece abbiamo deciso un'altra strada. Qualcuno ci ha chiesto perché dovremmo aderire al PCR, perché dovremmo aderire al vostro partito. Ci sono molti motivi per farlo, ma io volevo soffermarmi su un motivo in particolare. Ci rivolgiamo oggi in primo luogo a chi vuole lottare per il comunismo. Il nostro compito immediato non è conquistare le masse, ma non temiamo le masse. Anzi, solo attraverso la partecipazione attiva delle larghe masse si può abbattere il capitalismo. Lo dicevano già Marx ed Engels quando dicevano che i comunisti sono la parte più progressiva e risoluta dei partiti operai, ma su tutti gli altri hanno il vantaggio di un'analisi e di un programma coerenti. Questo l'abbiamo verificato nelle mobilitazioni in sostegno al popolo palestinese. L'internazionale comunista rivoluzionaria di cui siamo orgogliosi di far parte ha partecipato da subito alle manifestazioni in modo energico e combattivo, denunciando i crimini dell'imperialismo, l'ipocrisia dei governi e dei media borghesi. Abbiamo partecipato alle accampate in tutto il mondo, in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti le abbiamo difese dall'aggressività sionista e anche qui in Italia. Ma in questo movimento non ci siamo limitati a denunciare Netanyahu, Biden, Giorgia Meloni come criminali di guerra o a denunciare quanto la guerra sia orrendamente profittevole. Abbiamo posto l'accento sulla necessità dei metodi della lotta di classe, sul ruolo del movimento dei lavoratori per fermare la guerra e per sconfiggere l'imperialismo e soprattutto sulla necessità di una soluzione rivoluzionaria e socialista per uscire dall'incubo che in questo momento soffrono le masse in Palestina e Medio Oriente. Questa prospettiva non può avere nessuna fiducia nei regimi arabi che guardano solamente ai loro cinici interessi. Non nascondiamo il nostro programma, compagni. Una forza comunista di avere un programma chiaro, dei metodi organizzativi che la definiscono. E anche in questo siamo andati controcorrente e abbiamo avuto ragione. Contro l'opportunismo di chi pensa che sia necessario mettersi in un calderone indistinto, in progetti ambigui, illusori, spesso prima delle elezioni e con risultati modesti. Si sono illusi che il loro eclettismo gli permettesse di aumentare le loro forze e invece quella era la base che preparava le loro sconfitte. Così come l'internazionale comunista di Lenin e Trotsky aveva 21 punti che la definivano e che guidavano l'azione dei suoi partiti nel mondo, noi abbiamo il programma dell'internazionale comunista rivoluzionaria che abbiamo discusso e approvato in assemblea in tutto il mondo e poi nel congresso dell'estate scorsa. Abbiamo scelto la linea della chiarezza politica, ideologica e organizzativa. E sarà questa la base dei nostri successi futuri. Così come dimostrano i nostri compagni canadesi che sono riusciti a costruire uno straordinario sciopero studentesco con oltre 50.000 studenti che hanno attraversato le strade del Canada la scorsa settimana. Con un programma chiaro di difesa del popolo palestinese ma anche che metteva al centro la soluzione socialista e rivoluzionaria in Medio Oriente. Da questo movimento siamo cresciuti molto, abbiamo imparato delle cose, ma soprattutto abbiamo ancora una volta imparato a riconoscere la differenza tra l'oppresso e l'oppressore. L'hanno fatta milioni di giovani, l'hanno fatta anche tanti lavoratori che hanno capito che per esempio un sindacato che non sa difendere un popolo il mio tempo sta per terminare e voglio lasciare la parola ad altri. Ma vorrei concludere questo breve discorso con le parole del compagno Lenin. Uno dei riferimenti per noi e che non è casuale campeggia qui in molti manifesti nella nostra assemblea. Lenin diceva quanto segue. È essenziale il fatto che il ghiaccio è rotto, la via è aperta, la strada è segnata, viva il partito comunista rivoluzionario, viva l'internazionale comunista. Il futuro è nostro, compagni. Interviene Franco Bavila dell'Esecutivo Nazionale, Direttore di Rivoluzione. Si prepara Serena Capodicasa dell'Esecutivo Nazionale. Dunque, inizio dicendo che a partire dal prossimo numero di rivoluzione cambieremo la testata del giornale. Metteremo Rivoluzione, giornale del partito comunista rivoluzionario. Per noi avere un giornale, un giornale cartaceo, non è una scelta vintage come usare il giradischi invece di Spotify, che comunque è una scelta rispettabilissima. No, per noi non è un vezzo, è una necessità, perché un partito comunista degno di questo nome ha bisogno di un giornale. Noi andiamo a diffondere rivoluzione davanti alle fabbriche, davanti alle scuole, nelle università, alle manifestazioni, alle stazioni della metropolitana e ogni vendita per noi è un intervento politico. Andiamo a parlare con le persone faccia a faccia. Non ci accontentiamo di un partito con un'esistenza mediatica, digitale. Noi vogliamo compagni in carne e ossa, attivi nella loro scuola, nel loro posto di lavoro. Vogliamo essere presenti fisicamente in mezzo ai lavoratori e agli studenti. Per dirgli la nostra, ma anche per ascoltare che cosa hanno da dirci. E oggi nessun altro va ad ascoltare che cosa hanno da dire i lavoratori. Avere un nostro giornale non ci serve solo per organizzare la nostra militanza quotidiana, ma ci serve anche e soprattutto per ragioni politiche. Vogliamo parlare di che cos'è oggi la libera stampa dell'Occidente? Di questi giornalisti indipendenti che ci spiegano che non ci sono i soldi per le pensioni, però poi quando c'è da spendere per acquistare gli armamenti, improvvisamente quei soldi saltano fuori. Vogliamo parlare di come la stampa occidentale ha coperto le notizie della guerra in Ucraina? Propaganda antirussa, dall'inizio alla fine, ininterrottamente. Ci hanno raccontato di vittorie militari ucraine che Napoleone spostati, di una Russia in ginocchio, e oggi la realtà è esattamente il contrario. E non dimentichiamo la vergogna che fanno tutti i giorni sulla Palestina. C'è un corteo in salideretà con Gaza? Antisemiti. L'Iran, scusate, Israele bombarda il Libano, la Siria, l'Iran e lo Yemen, e la notizia che abbiamo è l'asse del terrore iraniano. Questa è la libera stampa occidentale. Gli israeliani bruciano la gente viva negli ospedali, ma noi sentiamo solo il diritto di Israele all'autodifesa. Questa è un'ipocrisia che fa vomitare. Noi con il nostro giornale facciamo controinformazione, dobbiamo ristabilire la verità contro tutta questa montagna di propaganda stucchevole. Però attenti, perché noi non siamo un giornale indipendente, con uno sguardo neutrale sui fatti. No, noi siamo un giornale di parte, anzi un giornale partigiano. Da che parte stiamo? Dalla parte della classe operaia, dalla parte dei popoli oppressi, che non solo vengono massacrati, ma vengono anche calunniati. Questa è la parte dalla quale stiamo. Avere un giornale ci distingue molto anche da tutta la galassia della cosiddetta sinistra. Se voi guardate, la crisi della sinistra è andata di pari passo con l'abbandono della stampa di partito. E ci sono anche forze che il giornale non ce l'hanno mai avuto, hanno un'esistenza che è confinata solo ed esclusivamente sui social. Il motivo è semplice. Scrivere un post, tutto sommato, è facile. Fare un giornale politico invece è difficile e noi lo sappiamo bene. Fare un giornale politico richiede impegno, richiede militanza, richiede passione, una vita interna vivace nell'organizzazione, richiede studio, richiede approfondimento teorico. Tutte cose che le altre organizzazioni non hanno. In passato qualcuno ci prendeva in giro. Ecco che arrivano quelli con il giornaletto. Il giornaletto. Ebbene, noi oggi siamo ancora qui, siamo cresciuti e stiamo lanciando un partito. Gli altri invece hanno perso tutto. Non hanno più il giornale, non hanno più il partito, in alcuni casi non hanno più neanche la dignità. Noi non solo vogliamo mantenere il giornale, ma vogliamo investire per migliorarlo, nella forma, nella grafica, certo, ma anche vogliamo che il suo contenuto sia sempre più ricco. Noi vogliamo che ci siano il maggior numero possibile di compagni che scriva per il giornale. Servono corrispondenze sulle condizioni concrete dello sfruttamento, sugli episodi di repressione, sulle lotte, su come si costruisce concretamente il partito comunista rivoluzionario nei territori. Io rivolgo un invito a tutti i presenti. Mandate alla redazione le vostre proposte, scrivete per rivoluzione, lettere, commenti, resoconti. Non preoccupatevi se lo stile non è aulico, non preoccupatevi se manca una virgola qui e là, l'importante è la sostanza, l'importante è avere qualcosa da dire e noi compagni abbiamo tante cose da dire. Un'altra caratteristica che contraddistingue il nostro giornale è la sua chiarezza politica. Il nostro non è un giornale rivolto agli intellettuali, è un giornale rivolto ai giovani, ai lavoratori. Affrontiamo temi complessi, scriviamo articoli di teoria marxista, di storia del movimento operaio, ma lo facciamo con un linguaggio semplice, diretto. E lo dico perché ci sono tante teorie nuove che utilizzano un linguaggio astruso che ti fa venire il mal di testa. Però poi se vai a grattare, gratta che gratta, sotto i paroloni, poi trovi delle piccole ricette riformiste all'acqua di rose. A noi invece non piace giocare con le parole, noi non ci nascondiamo dietro le parole. Ci piace parlare chiaro. Per noi la teoria serve perché è una guida all'azione, altrimenti serve a ben poco. Una volta uno studente mi ha detto mi piace il vostro giornale, perché sugli altri giornali leggo solo di tutti i problemi che ci sono e mi deprimo. Sul vostro giornale invece leggo comunque dei problemi che ci sono, ma trovo anche delle soluzioni, delle vie d'uscita. Credo che è uno dei migliori complimenti che ho mai ricevuto. Ed è vero, noi non ci uniamo al coro della sinistra lamentosa. Ah, che brutti tempi che viviamo, una volta era tutto più bello. No, noi non diciamo queste cose. Sul nostro giornale troverete altro, troverete proposte, rivendicazioni, parole d'ordine, strumenti per intervenire nelle mobilitazioni, programmi, metodi di lotta, esempi concreti. Il nostro è un giornale militante che invita ad attivarsi politicamente, a partecipare, a lottare. E questo lo rende un giornale unico nel suo panorama. Concludo ricordando c'è una frase famosa di Lenin che ripetiamo spesso. Non posso andare via senza citarla, se no mi destituiscono. Lenin diceva il giornale è l'organizzatore collettivo del partito. È una grande frase, è una sintesi perfetta. Noi purtroppo non abbiamo Lenin nella redazione di Rivoluzione, dovete accontentarvi. Ma anche se non abbiamo Lenin, dedicheremo tutte le nostre energie per far diventare Rivoluzione ancora di più l'organizzatore collettivo del partito comunista rivoluzionario. Prendo la parola Serena Capodicasa, si prepara Mario Iavazzi, Assemblea Generale CGL e coordinatore dell'area sindacale giornate di marzo. Prego, Serena. Io ho la mia citazione di Lenin che è questa. Il proletariato non raggiungerà una completa emancipazione se non sarà prima conquistata una completa libertà per le donne. queste parole condensano condensano l'impegno di noi comunisti nella lotta contro l'oppressione femminile e contro ogni altra forma di oppressione. È vero che oggi possiamo votare, divorziare, ci sono le donne che vanno nello spazio, le donne che guidano i governi, però poi c'è la vita, quella vera, delle donne della classe lavoratrice che è fatta di difficoltà a mantenere il posto di lavoro e conciliare il lavoro con la cura dei figli, dei genitori anziani, della casa. È fatta di salari più bassi, di maggiore precarietà, di ricatti e molessie sul posto di lavoro. Ora, la questione è che tutte queste ingiustizie e discriminazioni non è che sono semplicemente un retaggio del passato, ma il capitalismo necessita che vengano mantenute e anzi approfondite per poter spingere verso il basso le condizioni di tutti i lavoratori, per poter scaricare sulle donne, tra le mura domestiche, il lavoro di cura tagliando lo stato sociale. Ora, poi, certo, nella retorica a tutela delle donne sono bravi tutti, no? E lo vediamo soprattutto in questi giorni, alla vigilia del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in cui devo dire che colpisce ancora di più l'ipocrisia delle istituzioni e dei media borghesi su un tema così doloroso. Solo che quest'anno non abbiamo solo avuto l'ipocrisia, abbiamo avuto anche la provocazione aperta. Abbiamo avuto la faccia tosta, senza vergogna, del ministro Valditara che ha ritirato fuori il capo espiattario dell'immigrazione contro ogni dato e contro ogni evidenza sul fenomeno della violenza sulle donne. E sempre Valditara, sempre senza vergogna, ha avuto il coraggio di venirci a dire che il patriarcato, il patriarcato, un sistema millenario di oppressione, è stato superato nel 75 con il nuovo diritto di famiglia. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando, Valditara? e la faccia tosta, senza vergogna, ce l'ha avuta anche la roccella, una ministra donna, quando ha rivendicato l'azione del governo contro la violenza sulle donne. E sì, certo, andiamo a vedere qual è stata, di cosa stiamo parlando? Questo governo ha cambiato i requisiti per l'accesso ai finanziamenti dei centri antiviolenza a discapito di quei centri storicamente gestiti da associazioni femminili che molti delle quali stanno chiudendo. E cosa vogliamo dire delle pressioni sulle donne che vogliono interrompere una gravidanza e che si ritrovano con gli antiabortisti dentro i consultori finanziati con denaro pubblico? Anche questa è violenza! E questa è una violenza che si è esercita sulle donne da un governo guidato da una donna! E lo voglio sottolineare perché nella sinistra anche nella sinistra si è fatta avanti a un certo punto l'idea che comunque una donna al governo una donna al potere è un progresso per tutte. E devo dire che ultimamente anche Hélice Line ha riconosciuto che effettivamente non è così che la melonia e la roccella non sono proprio delle amiche delle donne poi però continua a fare appelli per fare un'azione condivisa in Parlamento poi però vorrei dire ad Hélice Line che se l'alternativa è Kamala Harris allora anche qui di cosa stiamo parlando? Diciamolo con che faccia la Harris è andata a chiedere il voto alle donne americane promettendo il diritto di aborto quando con l'amministrazione Biden i democratici avevano tutti i numeri per far passare una legge e non l'hanno fatto con quale faccia? E l'abbiamo visto con i referendum che ci sono stati anche negli stati a maggioranza repubblicana come questo tema si è sentito è urgente negli Stati Uniti alla fine si tratta di una questione di classe noi non possiamo fidarci delle donne della classe dominante noi rifiutiamo quelle teorie per le quali solo chi vive direttamente l'oppressione ha diritto di parola su di essa quelle teorie per le quali io dovrei riconoscere come mie alleate Giorgia Meloni e Kamala Harris e invece gli uomini sul mio posto di lavoro dovrei considerare dei privilegiati no non siamo d'accordo perché queste idee vanno proprio nella direzione di dividere la classe lavoratrice proprio come vogliono i capitalisti ci vuole la lotta della classe lavoratrice unita contro uomini e donne della classe dominante e ci vuole e ci vuole un programma un programma non solo di difesa ma anche di rilancio sui diritti vogliamo la parità di salario vogliamo la socializzazione del lavoro domestico asili scuole lavanderie mense pubbliche e gratuite vogliamo aumentare i consultori e cacciare le associazioni antiabortiste non un euro vogliamo abolire l'obiezione di coscienza che è la principale sul diritto di aborto è il principale ostacolo all'accesso al diritto di aborto in Italia lottiamo contro ogni forma di discriminazione delle persone LGBT stiamo per estendere le adozioni alle coppie omosessuali un programma di difesa e di rilancio che però può avere un respiro solo se lo inseriamo in una prospettiva anticapitalista perché fin quando ci sarà sfruttamento di una classe sull'altra fin quando le nostre vite saranno dominate dalla logica del profitto non ci potrà essere una vera liberazione dall'oppressione lottando per una società che produca per i bisogni di tutti e non per i profitti di pochi noi stiamo anche lottando per superare per eliminare le basi materiali dell'oppressione stiamo lottando per una società in cui la vita di ogni persona e le relazioni tra le persone siano liberati dalla necessità materiale e finalmente vissute in modo autentico per noi il comunismo è anche questo grazie prima di dare la parola a Mario ricordo che dopo si prepara Noemi Giardiello della sezione di Milano e ora leggo il messaggio di saluti che ci è stato inviato dai nostri compagni tedeschi che terranno il prossimo fine settimana il loro congresso di fondazione del partito comunista rivoluzionario in quel paese cari compagni del partito comunista rivoluzionario sezione italiana dell'ICR la fondazione del vostro partito è un passo importante nella preparazione della rivoluzione mondiale milioni di giovani e di lavoratori stanno cercando una via di uscita al vicolo cieco in cui il capitalismo ha condotto l'umanità dappertutto noi dobbiamo cogliere questa opportunità con entrambe le mani è il compito del partito comunista rivoluzionario quello di riconnettere la classe lavoratrice e la gioventù italiana con le sue tradizioni comuniste e rivoluzionarie in Germania noi anche in Germania noi alziamo questa bandiera la bandiera di Marx Engels Lenin Trotsky Rosa Luxemburg e Karl Libknecht questo è il motivo per cui fonderemo il prossimo fine settimana anche noi il partito comunista rivoluzionario assieme con i nostri compagni di tutto il mondo rovesceremo questo sistema marcio prego Mario mi scuseranno i compagni se non ho una citazione di Lenin credo che però sarebbe stata molto utile per le cose che intendo dire l'avrebbe detto meglio di me nel 2021 una ricerca diceva che nei precedenti 30 anni il salario in Italia era calato del 2,9% in Europa era il paese che aveva visto il calo dei salari maggiore era il risultato della politica dei redditi il risultato della moderazione salariale della concertazione anni di governi di tutti i colori in particolare di centro-sinistra che appunto in quei 30 anni avevano governato e avevano massacrato i lavoratori e le loro condizioni di vita eppure era solo l'inizio subito dopo il covid avevano cominciato a immettere capitali vi ricordate le politiche di Next Generation EU il PNRR in Italia la classe dominante provava a trasmettere l'illusione che quello avrebbe potuto essere distribuito e far migliorare le condizioni di vita di tutti i lavoratori compresi in realtà come diceva nella relazione Giardiello quello non è stato nient'altro che un ulteriore aumento del debito e soprattutto tanti tanti soldi ai padroni di questo paese eppure dopo quel periodo è ripartita l'austerità c'è stato un dato di recente che è uscito dell'Istat che dice che le retribuzioni contrattuali dell'intero periodo post covid cioè fino alla fine del 2023 hanno visto un aumento delle retribuzioni del 5,4% tuttavia l'inflazione è stata del 17% un'inflazione per tutti in realtà perché poi sappiamo che quella per i lavoratori è molto più cara del 17% in termini reali quindi i salari contrattuali si sono ridotti del 9,5% in questi anni il 3% era un successo e questo è il risultato di rinnovi contrattuali indegni nell'ultimo periodo in realtà per i lavoratori più risorse o austerità significano sempre la stessa cosa e cioè austerità sarebbe stata necessaria da parte del gruppo dirigente della mia organizzazione della CGL una campagna per chiedere una nuova scala mobile una vera lotta nei posti di lavoro per organizzare i lavoratori e chiedere appunto che questa rimendicazione diventasse attuale è un gruppo di delegati di lavoratori della nostra area che non a caso quasi tutti sono qui e questo diciamo non è appunto casuale siamo andati davanti a posti di lavoro a chiedere ai lavoratori cosa pensavano di appunto l'introduzione di una nuova scala mobile devo dire che molti giovani non sapevano cosa fosse la nuova scala mobile visto che appunto era di un'epoca precedente una volta spiegata rispondevano entusiasticamente abbiamo raccolto diverse migliaia di firme firme che abbiamo consegnato al segretario generale Landini credo fosse seduto proprio al posto di Claudio Bellotti e le firme sono rimaste lì tant'è che io la volta successiva quando al successivo direttivo sono andato a vedere se c'erano ancora le firme perché non le aveva praticamente considerate è questo l'approccio che ha la direzione della CGL e che abbiamo visto negli scioperi rituali che hanno fatto negli ultimi anni devo dire che definirli scioperi di testimonianza è un complimento erano scioperi di cui non si accorgeva nessuno in primo luogo i padroni eppure nel frattempo in Europa nel mondo negli Stati Uniti le lotte si vedevano si sentivano e ottenevano degli importanti risultati non voglio ricordare la straordinaria lotta dell'automotive negli Stati Uniti che è stata già ricordata e che abbiamo discusso più volte ma è notizia di questi giorni due settimane fa gli operai della Boeing hanno votato a favore di un rinnovo contrattuale del più 38% chiediamo ai dirigenti sindacali di fare questo tipo di rivendicazioni e di lottare affinché i lavoratori appunto abbiano ciò che è necessario questo è stato ottenuto dopo sette settimane di scioperi la Boeing è andata in rosso di 6,17 miliardi di dollari una roba del genere l'aveva vista solo quando nel 2020 gli aerei erano rimasti fermi due cose hanno fermato i padroni della Boeing il covid e la lotta di classe e questo è diciamo una lezione che deve essere trasferita in Italia la classe lavoratrice si sta svegliando in tutto il mondo io penso che nelle prossime settimane sentiremo parlare per esempio della lotta dei lavoratori della Volkswagen che si stanno organizzando contro possibili tagli e licenziamenti da parte di quella multinazionale e nel frattempo però il livello di aggressività del governo e dei padroni in Italia si fa sempre più forte un governo così infame e vigliacco che mette dell'alcol su delle ferite aperte come si può definire appunto se non infame e vigliacco l'aumento di 3,17 euro alle pensioni minime un aumento di 3 euro a chi guadagna a chi guadagna a chi meritatamente dopo una vita di sacrificio di lavoro percepisce 614 euro appunto sono degli infami l'altro ieri c'è stato un ennesimo tavolo della contrattazione nazionale nella sanità e il governo la ARAN ha proposto aumenti per l'indenità inferministica di 5 euro lordi mensili per gli ost di 2,20 metri mi dispiace ai compagni ost che sono qui che ce ne sono ma le notizie non sono buone dal punto di vista della contrattazione l'aumento del contratto produrrà per i lavoratori della sanità se lo dovessero firmare 30 euro netti al mese questa è la vergogna la novità storica è che la CISL e altri sindacati corporativi hanno cominciato a firmare contratti separati notizia di queste settimane il contratto delle funzioni centrali delle poste e penso purtroppo che ne vedremo anni sono altri nei prossimi settimane nei prossimi mesi e questo che ha prodotto oltre ai calci negli stinchi che sta ricevendo il nostro segretario generale a proclamare lo sciopero generale il 29 di novembre e soprattutto diciamo ad alzare i toni dal punto di vista del linguaggio come è stato detto noi saremo in prima linea a sostenere e a far sì che i lavoratori attivamente aderiscono allo sciopero però devo dire appunto che l'invocare la rivolta sociale è un fatto ovviamente di per sé positivo però il problema di alzare i toni è che poi devi essere coerente con quello che dichiari perché se non lo fai può diventare un boomerang e può ritorcerti contro secondo me questo lo sanno i dirigenti sindacali non è un caso che forse i toni non li alzano mai e questa volta sono rimasti sono stati costretti a dire il vero Landini non è nuovo a queste dichiarazioni altisonanti una volta o forse addirittura due sicuramente credo ai tempi di Renzi nel 2015 minacciò l'occupazione delle fabbriche lo stiamo aspettando era 2009 ma anche 2015 contro Renzi rivolta sociale vuol dire lottare con fermezza e determinazione senza fare sconti lotte dure radicali lotte che siano in grado appunto di rompere con quella fase della diplomazia sindacale dell'appello alle istituzioni della richiesta permanente di incontri di tavoli delle lotte rituali frammentate e inutili la lotta contro le politiche del governo deve essere unita alle vertenze per i nuovi contrattuali e per i settori in crisi e di queste settimane le lotte importanti dei trasporti pubblici locali l'8 di novembre i lavoratori hanno dimostrato che senza di loro non si muove nulla e non è un caso che un giornale spazzatura come il giornale abbia dichiarato appunto che quello è stato il governo della vergogna sono quelli uno sciopero della vergogna sono quelli gli scioperi necessari e che noi vogliamo servono rimendicazioni nette e audaci aumenti salariali appunto con richieste di il 30-40% di aumenti che è quello che i lavoratori hanno perso la scala mobile dei salari e delle pensioni la riduzione dell'orario di lavoro a paità di salario l'attacco ai grandi patrimoni e profitti per sostenere le spese sociali l'esproprio e la riconversione sotto il controllo dei lavoratori delle industrie che chiudono licenziano dismetto la produzione e quindi la nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori e quindi per questo ci vuole una mobilitazione generale dal basso noi saluteremo e sosteneremo tutti i processi di autoconvocazione e di autoorganizzazione dei lavoratori che spingeranno il sindacato a fare di più e a fare meglio di quello che abbiamo visto in questi anni perché la rabbia si percepisce in ogni assemblea si percepisce in ogni sciopero si percepisce in ogni manifestazione quando diciamo i lavoratori trovano un canale per farlo e noi il contributo che daremo è quello appunto di elevare il livello politico e di coscienza di classe dei lavoratori e dargli con sepola valorezza della sua forza compagni finisco questo è un salone che conosco perché ha una tradizione sindacale importante viene considerato e conosciuto come appunto uno dei luoghi dove il movimento sindacale appunto ha fatto delle riunioni importanti e quant'altro sono certo che in futuro questo salone verrà ricordato per essere stato il salone in cui è nato il partito comunista rivoluzionario viva il partito comunista rivoluzionario viva l'internazionale comunista parola a Noemi si prepara Roberto Sarti responsabile della sezione di Bologna questo sistema da decenni non ha più nulla da offrire ai giovani dall'istruzione al mondo del lavoro oggi fare una vita normale potersi laureare prendere una casa mettere su famiglia tutto questo non è più una prospettiva reale per la maggioranza dei giovani nel mondo da quando questo governo è al potere in tutti gli ambiti ha portato avanti da un lato la sua propaganda bigotta fortemente razzista reazionaria e dall'altro tutta una serie di politiche a favore della classe dominante italiana guardiamo ad esempio al programma del ministro dell'istruzione Valditara è il sacrificio totale della cultura in nome delle esigenze di mercato si parla di una scuola made in Italy dei valori italiani e quali sono questi valori italiani la patria soprattutto quando questa patria va a fare guerre e genocidi in giro per il mondo la proprietà privata e l'impresa privata di questo stiamo parlando il documento del ministero dell'istruzione è un totale asservimento della scuola pubblica italiana ai desideri di confindustria niente di meno e con i nuovi istituti tecnici ideati da Valditara oggi l'unico sbocco che può avere uno studente uscito dalle superiori è quello di andarsi a far sfruttare in qualche realtà produttiva del territorio poi più ore di alternanza scuola-lavoro per tutti perché ci devono mandare a 15 anni a morire nelle fabbriche lavorando a gratis perché e comunque il governo ci ha già detto che si aspettano altri morti giustamente perché ne abbiamo già avuti tre di morti questa è la faccia del governo Meloni e siamo in Italia a livello più alto di spese militari dal 46 in rapporto al PIL e a livello più basso di spese per l'istruzione pubblica a settembre si parlava del fatto che le scuole pubbliche non potevano riaprire perché mancava il personale perché mancavano gli insegnanti cioè i dati ci dicono che sette scuole pubbliche su dieci non sono a norma ma nonostante ciò il dibattito sull'istruzione oggi è se dare 1500 o 2000 euro di voucher a chiunque si iscriva alle scuole private scuole di preti e di suore finanziate con i nostri soldi che negli ultimi dieci anni hanno visto triplicare i finanziamenti pubblici e che alla fine oggi sono l'unica via percorribile per tantissime persone perché il sistema pubblico la scuola pubblico è al totale collasso e quindi rimangono solo questi privati così come accade nella sanità ma non è finita ma l'Italia vuole creare delle vere e proprie caserme nelle scuole già abbiamo visto un sacco di misure repressive aiutato dal nuovo decreto sicurezza da un lato nelle scuole il voto in condotta viene già usato e lo sarà sempre di più come uno strumento di repressione politica contro chiunque protesti e dall'altro lato quando andiamo a manifestare nelle piazze ci manganellano a sangue incoraggiati dal governo e nonostante ciò quello che abbiamo visto è che sono state ancora più persone a scendere in piazza ancora più studenti a protestare e voglio dire una cosa ai compagni nelle scuole che noi dobbiamo riappropriarci delle forme di lotta tradizionale del movimento studentesco italiano perché valditare non perde mai occasione di dirlo vede nel 68 studentesco l'inizio di tutti i mali perché per la prima volta in Italia la lotta degli studenti ha completamente ribaltato la scuola classista che era un lascito del regime fascista e della scuola gentile a cui valditara si ispira e per la prima volta abbiamo ottenuto importantissimi diritti che abbiamo ancora oggi anche se il governo vuole rimangiarseli l'accesso libero all'università per tutti non che se eri figlio di un operaio nella vita potevi solo usare le mani mentre solo i figli della borghesia potevano fare lunghi percorsi di istruzione i decreti delegati compagni noi abbiamo diritto a 6 ore di assemblea al mese abbiamo diritto a una rappresentanza allo sciopero all'autogestione dobbiamo riprendere questi strumenti di lotta ma poi se un giovane vuole entrare nel mondo del lavoro la situazione è ancora peggio il tasso di occupazione giovanile in Italia è tra i più bassi d'Europa l'80% dei contratti attivati per gli under 30 sono tutti contratti precari e temporanei e poi arriva la Meloni a vantarsi del fatto che ha diminuito la disoccupazione in Italia cioè questa è propaganda e questa propaganda riflette quanto questa gente sia totalmente distante dalle realtà che noi siamo costretti a vivere tutti i giorni e tutti questi contratti imposti dalle aziende si riflettono poi sui salari infatti per gli under 24 il salario anno si attesta ad una media di 9500 euro questo è meno della metà di un salario normale e il lavoro che dovrebbe essere uno strumento di emancipazione nella realtà di oggi quello che viene vissuto per migliaia di giovani come un processo di umiliazione quotidiana questa è la realtà in Italia abbiamo un milione e mezzo di giovani che non studiano e non lavorano cioè con affitti che sono irraggiungibili mutui che sono inaccessibili per colpa di tutta la speculazione che c'è dietro ma noi che vita ci dobbiamo costruire e potremmo parlare di tanto altro del ministro dell'ambiente che è un negazionista del cambiamento climatico della questione dell'immigrazione che va contro ogni basilari diritto umano del fatto che il nostro governo e le nostre imprese hanno infiniti accordi con Israele compagni questo è un mondo che va cambiato e volevo aggiungere una cosa che noi saremmo ingenui a pensare che basterà qualche azione eclatante o qualche forma di esplosione di rabbia disorganizzata per fare questo e non lo dico per conformismo anzi compagni la rabbia verso questo sistema che si è espressa tante volte in questi ultimi anni la dobbiamo inserire in un progetto di trasformazione della società più ampio in un progetto collettivo organizzarci nelle scuole nelle università nei posti di lavoro per questo abbiamo bisogno di formare un partito un nuovo partito comunista rivoluzionario una rivoluzione è un cambio radicale e per questo dobbiamo formarci politicamente è fondamentale imparare studiare le migliori esperienze di lotta del passato per poter finalmente cacciare nel dimenticatoio tutta la classe dominante che ci soggioga ad una vita di sfruttati che devasta interi continenti che distrugge impunita la vita di migliaia di persone in nome dei propri interessi il partito che stiamo costruendo vuole essere un'alternativa a tutto questo vuole essere un partito che vuole cambiare il mondo e che finalmente possa abbattere il sistema capitalista grazie benissimo parola a Roberto si prepara Cristian Briones delegato sindacale Filti Cigelle degli appalti UPS Milano compagni come spiegato nella relazione del compagno Giardiello noi lottiamo per il comunismo non solo per avere un salario più giusto una sanità un'istruzione di qualità ma lottiamo per il comunismo anche per salvare il pianeta in cui viviamo perché se la compagna Noemi che mi ha preceduto ha spiegato che trovare una casa per i giovani è quasi impossibile oggi avere una casa dove si sente sicuri che non crolli che non sia devastata dal prossimo alluvione dal prossimo evento estremo è anche questo sempre più probabile ed è anche per la difesa per la salvaguardia dell'ambiente che noi lottiamo gli eventi estremi sono sempre più frequenti e catastrofici fenomeni che avvenivano ogni cento anni l'abbiamo visto nella nostra regione ma anche ad Ischia ma anche nelle Marche ma anche in Toscana ormai avvengono ogni cinque sei mesi ma che dico ogni due tre mesi ma che dico ogni due tre settimane noi davanti a un'emergenza di questo tipo dobbiamo sviluppare la nostra alternativa portando avanti una critica su due fronti da una parte spiegare contro le argomentazioni della destra nazionaria che il cambiamento climatico esiste non è un'invenzione quest'anno l'estate del 2024 il mare mediterraneo la sua temperatura è cresciuta di due gradi rispetto al periodo dei 25 anni precedenti credo che chiunque di voi abbia fatto il bagno nel Mediterraneo non se ne si è accorti il compagno Bellotti no gli piace la montagna forse giustamente a questo punto ora quindi combattiamo l'economizzazione del governo Meloni che decide di affrontare l'emergenza climatica privatizzando la protezione civile dicendo fatemi salaga la casa fatemi l'assicurazione a noi non ce ne frega nulla questo è quello che faranno e da una misera alluminati pochi spiccioli qualche centriere di euro solo il 2% dei soldi promessi nel maggio 2023 sono arrivati però dall'altra parte dobbiamo combattere anche il fatalismo nel centro-sinistra questi governi regionali e comunali che dicono non c'è mai stata una pioggia così che dobbiamo fare no compagni perché questi nuovi fenomeni che sono sempre più quotidiani sempre più normali si inseriscono in un territorio che negli ultimi decenni è stato devastato cementificazione dovunque algeri dei fiumi cementificati fiumi nelle città tombati cioè chiusi ogni anno si cementifica il 7% del territorio in più rispetto all'anno precedente in Italia dal 2021 al 2022 il 10% in più dell'anno precedente una marea di cemento chiaramente per favorire gli interessi degli speculatori edilizie delle immobiliari e i grandi padroni della logistica non perché sono pazzi che costruiscono un terreno impermeabilizzato impermeabilizzato che assolbe l'acqua 6-7 volte di meno di quello permeabile secondo tutti gli studi e quindi è evidente che ogni pioggia produce eventi catastrofici e allora sono le regioni governate dal PD governate dal centrosilistra che hanno una responsabilità su questo in maniera molto chiara l'Emilia Romagna è la prima regione per edificazioni nelle aree a rischio agliugonate Ravenna che tutti sapete la provincia è molto colpita in questi ultimi anni e mezzo è la seconda provincia per consumo di suolo la prima mi dispiace per i romani è la vostra il centrosilistra appunto si pone totalmente a servizio del capitalismo si riempie la bocca di belle fragilogie green di difesa del territorio accoptando anche qualche dirigente ecologista ma non è un'attrativa incredibilmente in questo ma non tanto in quest'ultimo anno e mezzo hanno continuato in comuni come a Bologna a costruire nei territori alluvionati a Fenza costruiscono sul Lamone sui progetti a Bologna costruiscono sul Ravone che avete sentito questo nome che non è un nuovo tipo di pasta fresca ma è un torrente che scorre sotto Bologna ed è quindi una faccia di bronzo una faccia di bronzo criminale con cui questi sindaci ci vengono a parlare e questi presidenti dei giorni vecchi e nuovi delle mie mani della Toscana ed è solo un caso se in Italia non abbiamo vissuto una tragedia come quella di Valencia che c'è stata alla fine del mese scorso abbiamo avuto comunque anche noi nell'ultimo anno 41 morti ma gli oltre 200 morti a causa della gestione criminale del governo della regione valenziana sono uno scandalo che grida grida vendetta al cielo perché il governo locale come forse molti voi sapete e i padroni hanno ignorato la realtà rossa il presidente della regione valenziana mentre c'era la realtà rossa mentre c'era il diluvio mangiava al ristorante con i suoi amichetti questo si è rivelato e quindi dopo molte ore con passi di televisione dicendo state a casa è tutto continuato come prima quando e questa deve essere la indicazione dei comunisti del momento operaio con l'allerta rossa si deve chiudere tutto non solo le scuole anche i posti di lavoro noi a Bologna dopo l'alluvione abbiamo avuto la città paralizzata dove i lavoratori dovevano perdere ore per arrivare ai posti di lavoro ora è chiaramente che tutti come sapete non vi vengono pagate state lì fermi a consumare i soldi anche di benzina in mezzo al traffico questo è lo scandalo questa è la società che vogliono i padroni ma la cosa importante e significativa è che a Valencia la rabbia è esplosa e tutti penso che avete visto o molti di voi quelle immagini della gente del popolo valenziano che grida assassini e riempie di fango la coppia reale io queste immagini le ho viste con un godimento assoluto vedere la gente comune che fino al giorno prima si fidava di questi governanti pensava che la monarchia era la cosa buona dire alla regina vieni tu prendi la vanga e vieni a sparare questo è come la coscienza cambia quando qualcuno dice che la coscienza non cambia mai la gente cambierà mai una rabbia sacrosanta 150.000 persone hanno invaso forse di più la città di Valencia il 9 novembre e le dimissioni del presidente della generalità sono un passo se non si è dimesso è perché i sindacati e la sinistra non vogliono che si dimetta ciò accadrebbe ora e via via le mie ultime parole qua in Italia non siamo distanti da un'esplosione del genere anche quell'Italia è il col d'olio della disperazione legittime quando tu ti vedi i sacrifici di una vita spazzati via cederanno lo spazio a una rabbia a una rabbia che spazzare via tutto una rabbia che noi dobbiamo sapere organizzare che deve essere organizzata con un programma anticapitalista con un partito comunista un partito comunista rivoluzionario grazie compagni grazie Roberto chiamo ad intervenire Cristian Briones RSA Filt CGL appalti UPS Milano e a seguire si prepara Paolo Grassi tra i due interventi avremo il video di saluti dei compagni brasiliani buonasera a tutti per me è un grande onore essere oggi qua è un onore vedere così tanti giovani è un onore vedere questo partito rivoluzionario che si sta creando e che ci porta avanti in una lotta è un cambiamento che tutti vogliamo mi presento sono Cristian arrivo da Milano da lavoro della logistica sotto un apalto dentro UPS più o meno la maggior parte di voi quando legge il giornalino qualche qualche articolo c'è sono un po' emozionato scusate allora signori adesso vi faccio un review di quello che è stata la mia partecipazione in questa organizzazione dal 2013 di come ha cambiato la mia vita e soprattutto la mia visione politica a 360 gradi abbiamo iniziato nel 2013 con la paura incertezza di non capire dove andavamo abbiamo iniziato in 10 lavoratori siamo stati fortunati ad incontrare i compagni che ci hanno portato e continuano a sostenerci nella lotta che si intraprende dentro UPS dopo un paio di anni sono già 10 anni più o meno che continuo e non smetto di imparare perché il giornalino come diceva prima il compagno il giornalino signori ci fornisce degli strumenti molto 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 validi mi avevo preparato un discorso ma vado a normale esatto detto ciò il giornalino per me è stata una fonte di grande 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 motivazione per imparare soprattutto soprattutto e quello che io credo e vado fiero è che quando si legge il giornalino non bisogna solo leggerlo e pensare ma bisogna leggerlo e mettere in pratica nei posti nei luoghi di lavoro ed è il lavoro che io sto e continuo a svolgere nonostante ancora molti lavoratori perché ovviamente le incertezze le paure ci sono perché quando abbiamo un sindacato e parlo poi in generale perché un sindacato deve unire non deve dividere e le sigle sindacali da quello che è la mia esperienza hanno solo diviso i lavoratori ma il partito comunista rivoluzionario le organizzazioni i compagni con il giornale ci hanno aiutato ad unire i lavoratori e andare oltre a quello che pensano le sigle sindacali i funzionari ed è per questo che le speranze e la voglia di andare a lottare di cambiare questo sistema dove solo i patroni vogliono come ha detto qualche compagna metterci ancora le catene siamo noi diventati da delegati ad essere militanti politici ad essere dirigenti nei posti di lavoro e vado e dico quello che veramente mi nasce dal cuore signori vedo tanti giovani vedo tanti giovani scuole università probabilmente e non vi vedo annoiati qui dentro non vi vedo annoiati vi vedo svegli con una voglia di lottare di cambiare e soprattutto di essere qua e uscire da qua andare nei posti di lavoro andare nelle scuole ovunque ovunque siate condividere quello che stiamo facendo qua perché quando partecipo ai congressi della fil sui contratti rinnovi mi metto lì mi addormento perché l'anessima scusate ma l'anessima voglia di sentire sempre le stesse cose sì sì ma non si vedono i cambiamenti perché i cambiamenti e da quello che succede in UPS e quando dico sempre le stesse cose se vogliamo un cambio dobbiamo iniziare noi a farlo e ripeto scuole i posti di lavoro perché il sindacato non cambia le cose va solo a concordare con il patrone ma noi se siamo dirigenti e sappiamo veramente cosa vogliamo possiamo andare oltre e spingere che il sindacato faccia quello che vogliono i lavoratori e i lavoratori aiutare aiutare perché i lavoratori devono aiutare a quello che prima diceva la collega scusate se vado un po' la collega che ha parlato prima cioè i lavoratori i uomini dentro devono anche avere quella voglia quella voglia di difesa delle donne perché lo dico il matratto alle donne non deve esistere da nessuna parte nessun posto di lavoro deve maltratare né tanto meno a partare una donna perché noi siamo una cosa unica e i diritti devono essere uguali per tutti femmine maschi uguali per tutti difendere la classe vuol dire difendere tutti giù il capitalismo lo dico lo ripeto e andiamo avanti signori cari compagni nella lotta questo è aver finito forza un'altra cosa molto importante magari mi sono perso ma noi in UPS con i lavoratori facciamo sempre e cerco soprattutto non essere più un delegato ma un dirigente parlare politicamente ai lavoratori perché è quello che manca al sindacato mancano alle sigle sindacali perché non si parla più nei posti di lavoro come diceva un altro compagno di politica perché la visione che noi dobbiamo avere è una visione a 360 gradi di quello che succede nel mondo perché poi va e ricade nei piccoli luoghi dove lavoriamo dove studiamo tutto ricade in quei punti e siamo noi quella spinta e quella quella fuga di gas che possiamo far esplodere in un cambiamento vero e rivoluzionario signori è stato un piacere vedervi grazie Cristian ora il video di saluti dei compagni della sezione brasiliana ciao compagni sono Alex della sezione brasiliana della internazionale comunista rivoluzionaria e a nome della nostra organizzazione invio un caloroso saluto all'assemblea fondatrice del partito comunista rivoluzionario d'Italia successo forza vinceremo ciao compagni sono Alex do la parola a Paolo Grassi responsabile nazionale di organizzazione si prepara salvatore maglietta salvatore maglietta scusate il tempo è prezioso e non voglio sprecarlo compagni come ha annunciato Arianna io sono il responsabile di organizzazione e come vorrebbe la tradizione un responsabile di organizzazione fondamentalmente da cifre cifre di scritti cifre di quote di tessere cifre di obiettivi ecco io oggi vorrei dare solo alcune cifre essenziali però concentrarmi più che altro su cosa c'è dietro queste cifre perché vedete compagni noi a settembre abbiamo lanciato dopo il campeggio nazionale a massa a marina di grossetto abbiamo lanciato questa campagna per il lancio del partito comunista rivoluzionario e abbiamo anche pubblicato quello che facciamo su il nostro sito 100 fabbriche 130 scuole licei itis 40 università in verità questo dato come dire andava regolarmente quotidianamente aggiornato perché mentre inserivamo questi dati altre altre sezioni della nostra organizzazione si inserivano in questa diffusione abbiamo diffuso abbiamo attaccato 20.000 manifesti avremmo distribuito 30.000 volantini sticker come se piovesse abbiamo riempito le città dove siamo e dove non siamo ancora presenti di tutto il nostro materiale propagandistico e abbiamo ottenuto dei risultati perché tenendo conto anche delle campagne che abbiamo fatto nei mesi precedenti noi abbiamo ricevuto oltre mille richieste di adesione al nostro partito e a queste oltre mille adesioni abbiamo ricevuto anche richieste altrettanti un altro migliaio di richieste di adesione nelle diffusioni che facciamo quotidianamente davanti a queste cento fabbriche a queste scuole e a queste università abbiamo distribuito in queste diffusioni in un anno quanto Franco Bavi responsabile stampa 15.000 copie di rivoluzione 18.000 beh compagni io credo che siano dati importanti perché certo non è il partito comunista degli anni 70 con 2 milioni di iscritti con un quotidiano eccetera ma si vede poi come è finito se al di là dei numeri non hai dietro la sostanza e vediamo invece come oggi lo diceva già Franco non voglio ripeterlo c'è una misera intorno a noi e queste cifre non sono cifre modeste di chi si impegna ma sono cifre di chi ha un'idea chiara di quello che vuol fare e cerca giovani e lavoratori per allargare il numero dei militanti che possono sostenere queste idee e rafforzare questo partito che oggi viene lanciato ma che è una storia che viene da molto lontano allora compagni cosa significa trasformare in qualcosa di più chiaro questi numeri beh significa per esempio che noi i compagni operai in Stellantis ce li abbiamo e ci abbiamo i compagni a Torino a Pomigliano a Bologna a Modena che sono venuti alla manifestazione qua a Roma il 18 ottobre ma come ci sono venuti stando dietro uno spezzone e cantando dei cori noi ci sono venuti con un volantino con una proposta di nazionalizzazione perché perché noi vogliamo parlare alla classe operaia e abbiamo gli operai per parlare a questa classe operaia vedo compagni di Modena della classe operaia vedo compagni di Parma di Milano vedo compagni di Roma di Napoli e del Veneto e quindi e quindi questa cosa qui non è soltanto come dire una questione propagandistica vogliamo fare la rivoluzione e anche poi un agire quotidiano è intervenuto Cristian Briones prima di me sempre con l'umiltà che lo contraddistingue ma pensate se il lavoro che facciamo all'UPS dove questa settimana abbiamo piazzato degli scioperi che hanno avuto oltre il 90% di adesione e ci prepariamo per il 29 ottobre pensiamo pensiamo se questo lavoro riusciamo a farlo ad Amazon che è un'azienda della logistica in grande crescita dove ormai gli hub sono in quasi tutte le città nelle periferie delle città dove siamo presenti pensiamo se riusciamo a prendere non i delegati che ci sono adesso che sono stati in parte purtroppo selezionati dall'apparato sindacale ma pensiamo se riusciamo a intercettare quei giovani lavoratori che stanno assaggiando la fatica di quei ritmi di quei turni e riusciamo a aiutarli a capire il metodo con cui noi lavoriamo per parlare ai lavoratori e ovviamente potrei continuare così a lungo perché potrei parlare dei compagni studenti che sono stati repressi perché hanno sventolato la bandiera della Palestina oppure dei compagni studenti e lavoratori che dalle 5 di mattina hanno presediato insieme ai lavoratori del trasporto pubblico locale lo sciopero dell'8 novembre ecco io credo che questo sta dietro alle cifre che noi diamo e questo deve farci capire che il metodo che noi stiamo portando avanti che non è un metodo che ci siamo inventati ma che è il metodo ereditato dalla tradizione del partito bolshevico e dall'internazionale comunista nei suoi primi quattro congressi ecco queste cose qui per noi sono come dire un patrimonio che oggi stiamo dicendo che possiamo portare fuori da questa sala in modo ancora più articolato Arianna mi sta martellando quindi io devo essere molto più incisivo e però voglio dire una cosa perché cosa significano le tradizioni le tradizioni bolsheviche ecco cosa si distingue le tradizioni bolsheviche dallo stalinismo tutto ovviamente però che cos'è per esempio quale strumento questa organizzazione si dà per sviluppare il lavoro per definire una linea politica il centralismo democratico compagni che cos'è questo centralismo democratico è quello che nelle nostre sezioni nei nostri gruppi di base si discute si prendono si ci si confronta si prendono delle decisioni si fanno dei congressi una volta all'anno si discute poi però si ha il diritto di poter esprimere le proprie opinioni e anche le divergenze che è un dovere esprimerle poi però quando si decide e si decide a maggioranza si fa quello che ha deciso la maggioranza e si porta avanti come un sol militante la linea dell'organizzazione e questa cosa qui che può sembrare come dire abc non è mica scontata perché abbiamo una lunga lista di partiti che si sono frantumati davanti a questo perché? perché dietro c'era l'opportunismo di una speranza di trovare una scorciatoia di trovare qualcosa di più come dire comodo di adattarsi alla fine al sistema perché se ti manca la prospettiva rivoluzionaria presto o tardi ti adatterai ecco allora io dicevo noi la formazione la formazione teorica è fondamentale per questo che la facciamo a tutti i livelli e faremo un seminario nazionale sulla terza internazionale a cavallo tra maggio e giugno però facciamo congressi facciamo congressi annuali perché lo vedete anche voi le cose si sviluppano velocemente noi dobbiamo sempre tenere come dire aggiornata la nostra linea politica ma anche perché compagni noi siamo un'organizzazione che in questi anni è riuscita non soltanto a reclutare tanti giovani ma a far sì che questi giovani giocano un ruolo dirigente nella nostra organizzazione e questo è un patrimonio preziosissimo che non c'ha nessuno e siccome facciamo il congresso una volta all'anno e non ci facciamo mai mancare niente una volta all'anno ospitiamo in questo paese anche la nostra internazionale e anche l'anno prossimo ad agosto faremo il congresso alla nostra internazionale qui così i compagni lo sanno e si incominciano a organizzare ecco chiudo perché ho esaurito il mio tempo non faccio citazioni perché non sono capace però con una questione ancora importante che è questa noi questa organizzazione arriva da lontano e deve andare lontano e questo lavoro l'ha fatto col sudore con la fatica con i sacrifici lancieremo una colletta dopo e tanta passione però compagni cioè soprattutto la cosa che noi dobbiamo capire è che noi abbiamo il patrimonio di generazioni che ci hanno provato e purtroppo a parte i bolshevichi non ci è riuscito nessuno ma milioni di lavoratori si sono sacrificati per darci gli strumenti che noi abbiamo tra le mani oggi e quindi è importante che noi siamo sempre consapevoli di questo e soprattutto che noi siamo umili umili i nostri compagni devono saper tenere un discorso fare un comizio spiegare a un operaio il plus valore aiutare un compagno che fa difficoltà a scrivere ma ha le idee e ha rispetto agli operai un volantino servire una pizza a una festa di autofinanziamento deve saper fare tutte queste cose sempre con una grande umiltà perché questa organizzazione ce le ha le carte per essere quel fattore soggettivo che può finalmente aiutare la classe operaia a prendere il potere e abbattere il capitalismo grazie Paolo do la parola a Salvatore Maglietta responsabile della sezione di Caserta si prepara Vincenzo Chianese salve a tutti i compagni come è emersa dalla discussione finora il capitalismo è pieno di problemi ma c'è un luogo in Italia una zona in cui questi sono particolarmente violenti e accentuati parlo ovviamente del sud Italia questi problemi pesano gravano molto sulle spalle dei lavoratori e soprattutto sui giovani sono una serie di problemi strutturali che hanno delle radici storiche molto antiche che per ragioni di tempo chiaramente non possiamo trattare però una cosa la possiamo dire che nel corso degli anni dei decenni nonostante le svarete promesse dei vari governi di qualsiasi colore esso fossero questi problemi non sono mai stati risolti tutto al più accentuati tutto al più sono esacerbati e io credo che uno dei problemi alla base della situazione del sud Italia è quello della deindustrializzazione che c'è stato in passato ed va avanti tuttora giusto qualche dato basti pensare rispetto agli anni 70 l'occupazione industriale è calata del 40% dalla crisi del 2008 sono stati persi nel sud Italia nel settore della manifattura più di 250.000 posti di lavoro e c'è un'epidemia vera e propria di chiusura di stabilimenti crisi industriali di tutti i tipi nel 2021 chiudeva la Whirlpool a Napoli c'è l'ilva di Taranto che sappiamo bene questa ormai sua consolidata tradizione di crisi di cambi di mano eccetera la crisi di Stellantis e di tutto l'indotto di cui dopo verrà parlato meglio di me la Giabil di Marcianise che ha un passo anch'essa dalla chiusura lasciando migliaia di lavoratori per strada e in questi giorni in Sicilia a Ragusa e Pirolo i lavoratori dell'Eni stanno lottando contro la chiusura dei loro stabilimenti quindi parliamo del crollo di un settore decisivo centrale per l'economia altro che il turismo di cui viene tanto sanato che in realtà fa quasi più danni che altro ma questo compagno mi dicevo prima è solo la base del problema il settore pubblico nel sud Italia ha il completo sfascio vorremmo citare i trasporti totalmente inefficienti in alcuni casi assenti è il problema del governo la priorità poi è il ponte sullo stretto di Messina la sanità al limite del tracollo completo più che in altre parti d'Italia in alcuni casi non ci sono totalmente organico non ci sono come dire pronti soccorso aperti operativi e poi la questione dell'istruzione che viene sempre più violentata diciamolo in un contesto sociale che già ha le sue problematiche storiche l'abbandono scolastico dopo la terza media al sud Italia è del 16,6% in Italia al 12 in Europa al 9 così come la percentuale di 30 anni laureati al sud Italia è del 20% contro il 26 dell'Italia il 41 dell'Europa più del doppio e i continui tagli gli attacchi del governo non fanno altro che sono ancora più spietati nei confronti del sud Italia oramai i problemi strutturali delle scuole le classi bollaio la mancanza cronica di organico di professori è un problema endemico di questa zona e da questo governo non provengono altro che attacchi violenti non ha neanche avuto il tempo di insediarsi a Roma che il governo Meloni annullava il reddito di cittadinanza una misura che noi in qualche modo criticavamo in quanto insufficiente ma che ha dato una prospettiva ha aiutato la vita di migliaia di famiglie nel sud Italia ed è stato tolto da mezzo così come tutti questi deliri vanno chiamati per quello che sono attorno all'autonomia differenziata che al sud sarebbe veramente un massacro totale soprattutto per quei settori come la sanità e l'istruzione di cui già parlavo prima e se questa è la realtà la conseguenza più razionale più ovvia è la migrazione dal sud Italia soprattutto i giovani scappano in massa negli ultimi dieci anni più di un milione e quattrocentomila persone hanno abbandonato il sud Italia però per chi rimane c'è una realtà ancora più dura questa realtà fatta di sfruttamento di disagi e scarsissime possibilità lavorative come abbiamo visto sono in realtà ben sfruttate dalle istituzioni il quale hanno trasformato il sud Italia in un allevamento intensivo per i reclutamenti dell'esercito della polizia della guardia di finanza e tutti i tipi di divisa e questo noi lo vediamo tutt'oggi a partire dalle scuole superiori nelle classi ad oggi entrano i militari generali poliziotti a fare propaganda propaganda nazionalista sciovinista a dire quanto è giusto che mandiamo l'arma in Ucraina quanto è giusto che bombardiamo il Medio Oriente eccetera eccetera e se non diventiamo guardie subiamo invece la violenza delle istituzioni che anche questa al sud è particolarmente accentuata possiamo citare il decreto Caevano fatto a seguito di eventi ben noti oppure i regolari pogrom nelle carceri del sud come quello di qualche anno fa a Santa Maria Capovedere in cui questi coraggiosi carabinieri o poliziotti cosa essi siano non lo so in tenuta antisommossa sono arrivati a picchiare un detenuto in sedia a rotelle e ovviamente il manganello è la risposta a qualsiasi immobilizzazione così come in tutto il resto d'Italia e quindi prima ci riducono come animali i compagni e poi ci fanno anche la predica puntando il dito contro la violenza dei giovani del sud che sono sottosviluppati che sono incivilizzati eccetera eccetera davanti a questo siamo stanchi di tutta questa situazione ma siamo stanchi anche di coloro che si ergono a rappresentanti del sud d'Italia che sia il Movimento 5 Stelle che sia De Luca De Magistris Borrelli o chi per loro l'unica soluzione reale questo è già stato detto prima di me perdonatemi la ripetizione è quella di creare il partito comunista rivoluzionario una forza comunista marxista che possa proporre una lotta reale al capitalismo e possa proporre un programma rivoluzionario in cui spieghiamo che se le fabbriche chiudono allora vanno espropriate vanno tolte dai padroni se ci dicono che non ci sono i soldi per la scuola o per la sanità rispondere che questa è una menzogna i soldi ci sono vanno presi dalle tasche della borghesia e ridistribuiti lottare per creare un'economia pianificata che possa ridare dignità al sud e ai suoi giovani come dire non costringendole a migrare fuori a cercare fortuna altrove e dare dignità a una terra che viene calpestata oramai da decenni livellare la differenza fra sud e nord e spingersi oltre spingere da nord a sud a un nuovo livello di benessere e di progresso che l'umidità finora non ha ancora mai visto grazie mille a tutti grazie Salvatore la parola a Vincenzo Chianese RLS RSA Fiamma CGL Prima Sole di Caserta a seguire leggeremo i saluti dei compagni olandesi e poi darò la parola a Rob Sewell ma compagni come avete visto negli ultimi giorni ci sono annunci su annunci di licenziamenti di tutte le cause automobilistiche ci sta l'annuncio di austerità di Mercedes l'annuncio di Volkswagen di 30.000 licenziamenti quello di Ford di 4.000 che sembrano meno ma sono il 14% della forza lavoro in Europa e la Bosch a cascata dei 5.500 questa crisi del settore auto non è una crisi che arriva all'improvviso e soprattutto non arriva in modo uguale per tutti perché negli ultimi tre anni queste aziende hanno aumentato gli utili e i guadagni netti di miliardi e miliardi di euro rispetto agli anni precedenti ma questa crisi arriva perché l'ecologia così come la sicurezza sono in un regime capitalistico nient'altro che un costo per le aziende un costo che si cerca di scaricare sulla collettività perché che l'auto elettrica o che qualsiasi altra forma diversa di costo rispetto ai guadagni netti sia un problema anche questa è una novità da anni alcune case come in Cina sta avvenendo che certamente non è il comunismo che qualcuno continua a dire ma è semplicemente un capitalismo di Stato dove comunque una pianificazione riesce a essere anche in un ambito capitalista più efficace rispetto al libero mercato è qualcosa che ha messo in crisi tutte queste case e questa crisi stanno provando a scaricarla su di noi perché come per tutte le crisi e quelle di sovraccapacità che sono una parte della crisi reale che noi chiamiamo di sovrapproduzione delle auto e per la capacità di dover confliggere con i rivali cinesi tutta questa crisi viene scaricata molto semplicemente come spiegava qualcuno meglio di me e prima di me con una tendenza monopolistica in cui si cerca di sacrificare forze produttive del capitale per far sì che restino intatti gli utili dei grossi capitalisti e scaricare tutto sui lavoratori questo sta avvenendo in tutta Europa e sta avvenendo con una prospettiva di adesso che è troppo tardi adesso che per anni i governi non hanno voluto guardare in faccia questo problema e le case automobilistiche men che meno nonostante parliamo dei colossi come Volkswagen General Motors Ford che sono i primi produttori mondiali hanno guadagni come il pil di uno stato occidentale che una situazione non sia avvenuta adesso deve avvenire fuori tempo massimo e stanno cercando di scaricarlo sui lavoratori l'auto elettrica è diventato il capo espiatorio perché svela questo tipo di problema e come questo qualsiasi altro tipo di innovazione rispetto al vecchio capitale naturalmente in otto capitalistica questa non può essere la nostra prospettiva noi da anni abbiamo specificato che c'è bisogno di una transizione ecologica ma secondo le nostre logiche perché se questo è avverso in Europa Stellantis è il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro perché in Italia il sistema produttivo che ancora regge con più o meno 300.000 addetti tra Stellantis e Indotto è reti da tutti i problemi di sovrapproduzione scaricati da prima dall'FCA e da Marchionne con produzioni che sono sempre state spostate all'estero nei veicoli di massa basti vedere a quello che è stato fatto in Serbia in Palonia da allora Marchionne con Stellantis che quando è arrivata certamente avrà pensato non sono meno fesso agli altri imprenditori e continuò questa politica con una politica che da anni ha svuotato questo sistema industriale sebbene le fabbriche siano aperte sono state svuotate e dove adesso l'unica cosa che ha fatto Stellantis accenduando questa idea è quella di portare sempre più all'estero produzioni e indotti perché per chi non conoscesse questo sistema produttivo dove io lavoro l'indotto ha quattro lavoratori in Italia ogni dipendente in Italia a Cassino a Pomigliana a Miraforia a Melfio alla Sevel in questa ottica hanno firmato CISL Will e l'UGL accordi di uscita volontaria per 11.000 dipendenti quindi sono almeno 40.000 dipendenti 50.000 dipendenti in meno tutto questo ha fatto sì che il sistema finora creato da Marchionne in cui il sindacato dei firmatari di CISL Will e UGL viveva grazie alla briciole e alla fame che Marchionne gli faceva dare come cani da guardia dell'azienda non reggeva più e il 18 di ottobre c'è stato uno sciopero nazionale unitario di film FIOM a Roma che è un fatto nuovo che è un fatto che arriva in una dialettica sindacale lontana apposta rispetto a quella americana ma che ha lo stesso principio l'idea che gli interessi del padrone gli interessi dei lavoratori possono essere comuni non regge più nemmeno per sindacati che campavano sulla pelle dei lavoratori grazie ai padroni da quella parte per gli utili e i profitti che facevano in America per arrivare a chiedere qualcosina in più rispetto all'inflazione hanno dovuto fare tre mesi di sciopero e i lavoratori hanno obbligato quei sindacati a un processo di ricambio dialettico potremmo dire e altrettanto in Italia la lotta per sopravvivere obbliga queste organizzazioni sindacali a dover fare un minimo di conflitto nonostante le volontà dei propri dirigenti in questa ottica in questo frangente si spiegano tante contraddizioni di quello che è la crisi capitalistica e in questa ottica noi abbiamo una possibilità infinita di dire ai lavoratori che se dopo 40 anni e dopo un'infinità di incentivi dati alla Fiat FCA e ancora Stellantis ancora non basta niente ancora Tavares ci viene a offendere in Parlamento e ci viene a dire che il costo del lavoro è alto che il costo energetico è alto dopo che l'anno scorso da solo guadagna quante 1500 dipendenti dopo che ha avuto tutti questi soldi per questi anni se è così difficile fare padroni dateci a noi i mezzi di produzione e nazionalizziamo a noi questa fabbrica ma non come le nazionalizzazioni e non come le nazionalizzazioni che spesso sono state auspicate in cui vengono indennizzati i padroni sono stati pagati fin troppo in questi anni i padroni della Fiat dell'FCA e di Stellantis che si arrivi a questi espropri e queste discussioni che potevano sembrare questioni lontane fino a 5 anni fa 6 anni fa sono questioni di cui si riesce a discutere con i lavoratori e il compito che noi ci dobbiamo porre attraverso quello che è il nostro ruolo è quello di provare a instillare cellule che nelle fabbriche e luoghi di lavoro portino avanti questi ragionamenti in mezzo ai lavoratori laddove la crisi sta creando questo clima per poter far andare avanti queste nostre rivendicazioni da sbattere in faccia anche ai dirigenti sindacali visto che l'unità non è certamente l'unità del 18 dove persino la CIS l'ha dovuto scioperare con i metalmeccanici ma vediamo bene come sta agendo da Crumiro persino uno sciopero generale che avverrà il 29 come non sta scioperando e come proverà sicuramente in una fase futura a fare da freno noi siamo per l'unità ma l'unità dei lavoratori dal basso per avere rivendicazioni avanzate che portino ad avere nel breve periodo un'immediata garanzia del mantenimento dei posti di lavoro dei lavori in Italia e che ci dia la possibilità di portare avanti queste rivendicazioni affinché si ragioni di una prospettiva e un modello di industria perché spesso viene accusato qualche sindacato di fare politica noi lo rivendichiamo con orgoglio che c'è necessità di una nostra politica di classe della classe lavoratrice e noi abbiamo la possibilità certamente embrionale in questa fase ma con la buona volontà di parecchi di noi parecchi che una volta ne sono definite di avanguardia lo siamo io finisco sempre su me stesso il nostro malgrado il mio malgrado lo sono visto il contesto arretrato ma che nei lavoratori quando decidono di voler arrivare al conflitto ci danno la possibilità di andare molto più avanti rispetto a quello che noi stessi abbiamo immaginato io chiudo visto che i tempi sono contingentati dicendo soltanto che quello che è avvenuto non era immaginabile fino a due anni fa Fim e Wilm hanno mandato una lettera in cui si dice al governo che ci autoconvocheremo a Palazzo Chigi è evidente che tutto quello che sta avvenendo i padroni non hanno volontà di voler lasciare nemmeno un centesimo dei margini e dei profitti che hanno fatto finora per tutto questo tutte le idee tutte le illusioni riformiste che hanno dai sindacati dei padroni venduti a quelli in finta buona fede a sinistra sono fuori dal contesto economico noi abbiamo la possibilità di dare una prospettiva diversa di lavorare in mezzo alla classe lavoratrice affinché queste politiche vadano avanti anche in mezzo ai sindacati grazie Vincenzo allora leggiamo i saluti dai compagni della sezione olandese carissimi compagni quest'oggi è una grande giornata per voi e per tutta l'internazionale comunista rivoluzionaria finalmente in Italia ci sarà il partito comunista degno di questo nome pronto a lottare per un mondo migliore un mondo comunista sarà quella ventata di aria fresca che tanti studenti e lavoratori in Italia aspettavano da tempo dall'Olanda vi facciamo i più fraterni saluti e vi auguriamo buon lavoro per oggi e per il futuro viva il partito comunista rivoluzionario viva l'internazionale comunista rivoluzionario diamo la parola a Rob Sewell della segreteria segreteria internazionale prima di tutto voglio rivolgere i saluti più fraterni dal comitato centrale del partito comunista rivoluzionario di Gran Bretagna per me è un grande onore e privilegio essere qui presente in questo giorno storico della fondazione del partito comunista rivoluzionario in Italia naturalmente questo avvenimento non è a caso non avviene a caso siamo chiaramente a un punto di svolta decisivo nella storia mondiale non è un caso che tutta una serie di sessioni dell'internazionale abbiano fondato il partito comunista rivoluzionario in Europa e anche negli Stati Uniti che è parte del tentativo di dare un nuovo marchio alla nostra internazionale comunista rivoluzionaria come comunista proprio in questo momento e lo scopo di questo sono proprio le richieste della situazione è il periodo più convulsivo della storia mondiale e questo sta preparando delle convulsioni rivoluzionarie in un paese dopo l'altro abbiamo spiegato molte volte che quella che stiamo davanti non è una crisi secondaria del capitalismo al contrario è una crisi organica e il sistema sta raggiungendo i suoi limiti e sta entrando in una crisi profonda in una crisi insolubile e non siamo noi che ci creiamo da soli delle situazioni rivoluzionarie nel mondo ma è il capitalismo stesso che le sta creando naturalmente abbiamo visto l'elezione di Trump negli Stati Uniti è chiaramente un punto di svolta è come l'elezione di un toro scatenato nel capitalismo mondiale e Trump è il prodotto della crisi del capitalismo questa è la realtà e intensificherà con questa sua politica con questa sua politica di prima l'America e con il suo tentativo di introdurre dei tassi del 20% su tutte le merci importate dell'Europa e il 60% per i beni cinesi importati negli Stati Uniti questa è una dichiarazione di guerra e negli anni 30 Trotsky diceva che gli Stati Uniti stanno mettendo a stecchetto l'Europa ma in questo momento Trump con le sue azioni sta minacciando l'economia europea e l'economia mondiale e non è una crisi passeggera di cui stavo parlando è una crisi sistemica che sta creando una crisi di regime in Europa e dappertutto tutti i pilastri su cui si leggeva il capitalismo oggi sono in crisi la democracia borghese in se stessa è in crisi tutto è in uno stallo completo le condizioni oggettive sono stramature per la rivoluzione e i semi di questa situazione sono già seminati negli avvenimenti precedenti ma la più grossa crisi di tutte è la crisi della direzione perché la direzione del movimento operaio è in questo momento terribilmente più indietro rispetto alla condizione oggettiva della classe e questo congresso questa riunione sta cercando di risolvere questo problema per certi versi noi siamo un internazionale un partito nuovo totalmente nuovo però per un altro verso per la storia che ci precede siamo un internazionale con una grande storia con una grande esperienza se noi guardiamo all'apertutto nelle sezioni internazionali vediamo grandi progressi che ci stanno facendo senza alcuna eccezione e la ragione per questo è che nelle precedenti generazioni hanno svolto un lavoro pioneristico nella difesa delle idee vere autentiche del marxismo contro i reformisti e contro i stalinisti abbiamo notato contro corrente per un lunghissimo periodo ma oggi le cose stanno cambiando e gli avvenimenti si stanno muovendo verso di noi si stanno muovendo più velocemente oggi di quanto mai sia venuto prima naturalmente questo comporta un grosso pericolo perché abbiamo bisogno di tempo il tempo è prezioso per costruire le nostre forze per esempio l'obiettivo nostro è quello di arrivare a mille compagni nel più breve possibile in Italia e da mille compagni 10.000 e 20.000 ma per questo ci vuole un po' di tempo ci vuole un grande coraggio e tanto lavoro per arrivare a questi risultati in altre parole la costruzione nel partito non è una cosa automatica non è una cosa automatica non è che dalla mattina alla sera arrivano i grandi successi in realtà è una lotta una battaglia per costruire il partito quotidianamente noi ci basiamo sulle tradizioni più importanti della classe operaia e guardiamo le tradizioni di lotta della classe operaia italiana il coraggio la capacità di autosacrificio dei lavoratori nel passato nessuno avrebbe mai potuto chiedere di più alla classe operaia ma tutta energia sono state tradite e buttate al vento dalla direzione della classe operaia abbiamo potuto sbarazzarci del capitalismo generazioni fa ed è stato questo tradimento che ha bruciato intere generazioni di attivisti e di lavoratori le generazioni più anziane sono in maggior parte demoralizzate e deluse dai tradimenti del passato ed ecco perché oggi noi ci basiamo sui giovani e i giovani sono la chiave sulla base che noi forniamo forniamo scusate educhiamo questi giovani e per citare Lenin che ha i giovani al futuro conquistando i giovani e le nuove generazioni a loro volta questi giovani conquisteranno i lavoratori nelle lotte future questo non c'è nulla di nuovo i menshevichi si prendevano gioco dei bolshevichi dicendo ah i bolshevichi sono solo dei ragazzini nemocciosi ma sono stati proprio questi ragazzini queste ragazzine che hanno fatto la revoluzione nel 1917 perché non solo avevano le idee questi giovani che la chiave avevano l'entusiasmo e la voglia o che è il desiderio di superare ogni ostacolo i tentativi della classe lavoratrice di cambiare società non saranno una strada semplice ci saranno mille e uno ostacoli che si frapporranno alla classe operaia e verranno messi dalla borghesia e dalla direzione del movimento operaio ed ecco perché abbiamo bisogno di un'organizzazione di un partito che sia forte che abbia una volontà di una forza di volontà che abbia una forza di volontà che abbia una determinazione di portare le cose fino in fondo perché solo in questo modo noi potremmo avere successo ma come posso dire siamo molto fortunati a causa delle idee che abbiamo le idee che abbiamo le idee del vero comunismo e dobbiamo ringraziare compagni come Ted Grant che da solo ha difeso le idee del marxismo nel periodo più buio e siamo stati capaci quindi in grado di prendere questa tradizione la tradizione e l'importanza della teoria e così siamo stati capaci di ricostruire queste organizzazioni sulle fondamenta granitiche del bolshevismo e allora chiediamoci cos'è un comunista chi siamo noi siamo arrivati la conclusione che la classe operaia non possa risolvere i propri problemi sotto il capitalismo sappiamo che i riformisti non potranno mai risolvere i problemi del capitalismo in realtà al contrario scusate noi combattiamo una guerra contro il capitalismo e noi con tutto il nostro corpo e tutta la nostra anima crediamo che la classe operaia con una direzione all'altezza possa rovesciare il capitalismo ed ecco perché studiamo la storia nel momento operaio le grandi lotte nel momento operaio anche le grandi sconfitte per arricchire il nostro patrimonio teorico i riformisti hanno una memoria molto scarsa hanno nessuna memoria mentre che il movimento rivoluzionale in se stesso ha una memoria molto lunga prima di tutto noi impariamo dall'esperienza della classe lavoratrice che ci consente di armarci nel nostro lavoro nelle nostre attività e di conduci la strada verso successo chiaramente non c'è nulla non prendiamo nulla per garantito certo noi siamo orgogliosi di un successo e dobbiamo gridare da tutti dobbiamo mettersi sopra il tetto e gridare a tutti qual è la differenza c'è una differenza enorme tra di noi e quei riformisti quei settari che non fanno altro che lamentarsi e piangere nelle loro birre o nel loro limoncello quella è l'unica idea buona e gli ha promesso Alessandro di Moncello a Rob non è venuto per quello però aiuta noi dobbiamo usare il tempo che abbiamo all'esposizione in maniera piena ed ecco perché investiamo così tanto tempo sui nostri compagni più giovani abbiamo avuto abbiamo organizzato un avvenimento di grande successo l'Evolution Festival la scorsa fine settimana a Londra con oltre mille partecipanti in cui comrade anche partecipate dove un numero cospicoli di compagni internazionale hanno partecipato che è molto importante perché noi siamo un'unica organizzazione un unico movimento costruiamo insieme ma è stato molto importante vedere il livello politico dei compagni che cresceva la sete di idee che avevano in altre parole noi non solo formiamo degli attivisti ma noi stiamo costruendo dei quadri per l'intervento del Movimento Operario e perché questo è così importante perché questo è lo scheletro sulla base del quale costruivano partiti comunisti rivoluzionari di massa nel prossimo periodo e l'entusiasmo che c'era perché tanti compagni che erano presenti erano molto molto giovani e loro erano entusiasti d'idee perché potevano vedere che queste idee erano reali ed era un balenare il futuro davanti a sé e le finanze sono anche questo un'indicazione dei grandi sacrifici e abbiamo fatto la più grande colletta mai fatta in questi eventi ma abbiamo raccolto 90.000 stagline non so quante siano in euro sicuramente più di 100.000 euro quindi guarda dal nostro punto di vista sì internazionalmente stiamo passando da successo a successo dal certo punto di vista a livello internazionale ci stiamo portando avanti un successo dopo l'altro in contrasto invece alla borghesia ogni cosa che fanno è sbagliata e stanno giocando col fuoco Trump Trump può provocare una guerra commerciale che può avere come risultato una depressione economica simile a quella degli anni 30 dell'anno secolo scorso la coscienza che oggi rimane un po' indietro rispetto agli avventi li riacciufferà tutto in un colpo tutti questi eventi arriveranno come un fulmine che avrà un effetto sulla coscienza e sul modo di vedere le cose particolarmente dei giovani e su questa base saranno pronti ad abbracciare delle idee rivoluzionari ma quando il mondo sta creando pezzi qual è la soluzione e in tutto questo anno se volete noi abbiamo piantato la bandiera del vero comunismo una bandiera che non è gestita per tanto tempo non è che siamo partiti per voler pindarci sulla base di questi successi sappiamo che sarà molto duro abbiamo i nostri piedi ben piantati per terra ma compagno non c'è nessun altro a parte noi che può farlo questo è il significato della nostra organizzazione di questo internazionale di questo partito ed è compito di ognuno di noi di essere in grado di sollevarci di essere all'altezza di questa gestazione dobbiamo prepararci tutti noi in maniera individuale i grandi compiti che ci attendono perché ancora una volta nessun altro lo farà dobbiamo avere fiducia nelle nostre idee dobbiamo avere fiducia nelle nostre idee dobbiamo avere fiducia in noi stessi ma stiamo molto sicuri dove stiamo entrando e con questo impegno che stiamo dando oggi a Roma a Londra ed appertutto che noi lotteremo per conquistare la direzione della classe lavoratrice nel prossimo periodo e noi saremo determinati di concludere questo lavoro che i bolshevichi hanno iniziato nel 1917 cioè la rivoluzione socialista mondiale questo è il compito questo è il nostro compito questo è il vostro compito let's finish the job comrade let's go forward concludiamo questo lavoro bene compagni c'era un grande silenzio durante l'intervento di Rob dunque tutti voi avete ascoltato attentamente e tra le parole che ha detto c'è la parola colletta e dunque chiamo il compagno Ezubair Lalawi nostro responsabile della nostra Cassa del Fondo di Lotta per questo importante punto della nostra assemblea prima di dare la parola a Ezubair Lalawi una comunicazione di servizio qualcuno ha perso grazie Noemi la strada è di nuovo chiara anche per te e prima di dare la parola a Ezu anche un paio di annunci come molti di voi già sanno quando concluderemo i lavori alle 18 usciamo facciamo una manifestazione e la bandiera che oggi abbiamo appunto piantato andiamo a mostrarla anche per strada e non solo in questa sala questo significa lo dico perché molti di voi avranno già fatto una visita al banchetto col materiale che però dovrà chiudere un po' prima perché poi dovremo lasciare la sala per cui se avete messo l'occhio su qualche libro sulla maglietta su quella che dovete prendere dopo l'intervento di Ezu potete andare potete andare a completare così come chi fosse interessato naturalmente può lasciarci un recapito un indirizzo una mail un telefono per restare in contatto abbiamo anche i saluti di una sezione nuova ma molto importante dei compagni di Taiwan che adesso possiamo vedere e poi la parola ce l'ha Ezu e poi grazie a tutti compagni e compagni buonasera e come avete sentito sono qui oggi a chiedervi i soldi sostanzialmente come diceva Rob oggi noi ci stiamo proponendo di costruire un'alternativa per la classe operaia italiana un'alternativa che realmente la conduca al di fuori del marasma e dell'oppressione che siamo costretti a vivere ogni giorno la classe operaia italiana ci ha provato per ben tre volte in questo paese durante il secolo scorso a cercare di liberarsi dalle catene del capitalismo durante il bienio rosso durante l'autunno caldo e durante la resistenza in tutto questo è mancata una direzione rivoluzionaria e oggi noi dopo aver discusso per decenni dopo aver cercato di preservare e sviluppare ulteriormente le idee del marxismo ci proponiamo per l'appunto di diffonderle e di combattere affinché si diffondano tra la classe lavoratrice e si possa armare di esse un partito rivoluzionario ha bisogno di tre elementi idee programma e soldi oltre che di militanti che le portino avanti chiaramente nella lotta contro il capitalismo oggi noi sappiamo bene qual è la responsabilità che abbiamo sulle spalle ci stiamo assumendo una grande responsabilità a cui per forza di cose deve seguire un grande sacrificio facciamo nostre le tradizioni del movimento operaio le tradizioni di lotta e le tradizioni attraverso cui i lavoratori facevano in modo di portare la lotta fino in fondo fino all'ultimo scontro in questo paese nel 2009 c'è stata una grande lotta che è stata quella dell'inse dopo 15 mesi di sciopero e di lotta i lavoratori immigrati e giovani italiani sono saliti su una torre per ben una settimana hanno resistito all'oppressione dei padroni e hanno cercato di tenere duro come si sono sostenuti per quella settimana raccogliendo fondi tra tutto il paese che per l'appunto difendeva e appoggiava quella lotta perché questo è il livello della coscienza a cui può arrivare la classe lavoratrice se viene liberata da tutto quel velo di opportunismo di riformismo e di oppressione in cui viene relegata ogni giorno noi negli ultimi anni abbiamo combattuto per conquistare ogni singolo pezzo di questo partito ciascuna delle nostre sedi ciascuno dei nostri libri ciascuno dei biglietti del treno su cui siete arrivati è stato ottenuto attraverso il sacrificio della giornata di lavoro di un lavoratore e questo è il nostro grande orgoglio oggi ho avuto la fortuna di visitare per la prima volta la sede di Roma e devo dire che quello è un grande motivo di orgoglio perché abbiamo una sede dietro all'università una sede peraltro su cui i compagni hanno lavorato molto e quello è un luogo in cui sono sicuro che sarà un luogo di incontro di discussione di elaborazione per decine e decine di giovani e lavoratori che vogliono armarsi contro il capitalismo nell'ultimo anno abbiamo aperto sedi a Roma a Bologna a Parma a Modena e a Varese e a queste si assommano tutte quelle che avevamo già in passato il nostro obiettivo è quello di aprire sedi in ogni città di aumentare il nostro radicamento di fare in modo che ciascuna di queste sedi diventi un punto di riferimento politico per i giovani e lavoratori di questo Paese la nostra attività continua ad andare avanti e con l'inlancio del Partito Comunista Rivoluzionario si aprono di fronte a noi grandi possibilità che però hanno bisogno di concretizzarsi nel piano quotidiano nel piano dell'attività quotidiana i compagni a Trieste a Torino a Firenze a Genova e in molte altre città stanno portando avanti un grande lavoro verso i giovani e lavoratori di reclutamento di discussione oggi però per fare un salto qualitativo per l'appunto dobbiamo sacrificarci per cercare di ottenere e di costruire nuove sedi in tutti i posti in cui noi siamo presenti l'apparato che segue questo lavoro è un apparato che è totalmente autofinanziato che viene pagato attraverso le quote dei compagni e che segue a livello nazionale questo lavoro attraverso un centro che ci siamo conquistati con le collette scorse e che permette per l'appunto di organizzare l'attività di giorno in giorno e produrre il materiale di cui c'è bisogno oggi noi abbiamo grandi possibilità e questo ci deve mettere nell'ottica per l'appunto di raccogliere e di sacrificare tutto quello di cui c'è bisogno per poter effettivamente concretizzare queste possibilità per cui prima di chiedere alle zone di portare quelli che sono gli impegni della colletta la colletta per noi è un momento annuale che facciamo ogni due volte all'anno e che serve per l'appunto per raccogliere i fondi necessari per gli investimenti per costruire le sedi per produrre nuovo materiale e tutto quello di cui c'è bisogno la scorsa che ci ha permesso di lanciare la campagna del partito comunista rivoluzionario di affittare questa sede di organizzare i viaggi e portare tutti i compagni qui ci ha portato a raccogliere 30.000 euro chiaramente con il lancio del partito e con gli obiettivi che noi ci stiamo ponendo di fronte dobbiamo raccogliere le finanze che ci permettano di porci all'altezza di questi compiti ed è per questo che noi lanciamo una colletta tra i nostri compagni tra i nostri simpatizzanti tra chiunque pensa che questo partito realmente possa offrire un'alternativa di ben 40.000 euro che servono a spianare la strada al comunismo rivoluzionario per cui io vi chiedo di pensare bene a quello che potete offrire a questo partito di pensare di sacrificare una giornata del vostro lavoro due tre quattro un mese per liberarci effettivamente dall'oppressione del capitalismo compagni e compagni chiamo i responsabili delle varie sezioni a portare quello che è l'impegno che si stanno proponendo di raccogliere tra i compagni e simpatizzanti in modo da poter effettivamente iniziare questa campagna pubblica di autofinanziamento per cui chiedo ai compagni di avvicinarsi con l'obiettivo che si stanno ponendo intanto che i responsabili ragionano e scrivono c'è un video su questo tema che chiedo a Bigio di mandarci in onda nelle migliori tradizioni del movimento operaio il PCR si autofinanzia per mantenere la propria indipendenza politica un partito comunista deve basarsi sull'autofinanziamento ci proponiamo di costruire un partito che offra una lettura di classe di ciò che succede nel mondo attraverso la pubblicazione di libri di riviste del nostro giornale Rivoluzione i nostri militanti ripondono ogni giorno le nostre idee nelle scuole e nelle università nei posti di lavoro e nelle grazie stiamo aprendo sedi in tutte le città in cui siamo presenti per offrire uno spazio in cui discutere e organizzarsi attorno alla perspettiva rivoluzionaria i soldi per sostenere questo lavoro vanno raccolti tra chi appoggia le nostre idee perciò lanciano un appello per raccogliere 90.000 euro per costruire il partito comunista rivoluzionario dona oggi e aiutaci a costruire il partito comunista rivoluzionario non ho bisogno di dirvi cos'è questa bandiera ma vi spiego un uso particolare che adesso che adesso ne faremo questa bandiera gira nella platea e serve a fare l'unica cosa con cui siamo d'accordo con questo governo e cioè a liberarvi del contante che voi potete depositare all'interno perché gli impegni sono importanti ma anche la carta moneta Ezu ancora una cosa da aggiungere però dato che oltre al contante c'è anche chi ha i soldi nelle banche abbiamo messo dappertutto dei QR code che potete vedere lì vi basta inquadrare il QR code e poi aprire le vostre tasche e i vostri conti al partito comunista rivoluzionario Allora sono arrivati i primi obiettivi la sezione di Roma con un messaggio la sezione di Roma si pone come obiettivo 5.000 euro e aggiungono ma siamo fiduciosi di superarlo alcuni compagni hanno già raccolto 100-200 euro dai simpatizzanti come diceva Trotsky un rivoluzionario trova sempre i mezzi i soldi sono là fuori la questione è come recuperarli Caserta la sezione di Caserta che è una sezione in grande crescita in questo momento di cui è intervenuto prima il compagno Salvatore si pone un obiettivo di ben 300 euro la sezione di Reggio Emilia che è una sezione che ha un forte radicamento operaio nelle fabbriche dell'Emilia Romagna si pone un obiettivo di 750 euro la sezione di Crema si pone l'obiettivo di 700 euro e faranno una festa di autofinanziamento per raggiungere e possibilmente superare questo obiettivo un grande applauso compagni la sezione di Parma invece si propone di raccogliere 2400 euro per il partito comunista rivoluzionario a Bologna poco lontano da Parma invece ci si pongono l'obiettivo di raccogliere 5000 euro per la fondazione del partito in Sicilia abbiamo una presenza che è diffusa tra Messina Catania Augusta e stiamo cercando di entrare a Palermo e faremo un intervento allo sciopero generale di settimana prossima i compagni sono di recente ingresso ma hanno un grande entusiasmo e una grande voglia di costruire questa organizzazione e si pongono l'obiettivo raccolto tra i compagni qui presenti di 22-25 euro facciamo 45 euro a Firenze abbiamo dei compagni molto giovani un gruppo che è ben radicato nelle scuole che ha fatto vari interventi anche nei cortei che ci sono stati di recente e si pongono l'obiettivo di 600 euro e aggiungono e oltre i compagni avarese grazie i compagni avarese hanno appena aperto una bellissima sede in cui hanno fatto anche la presentazione del nuovo libro della storia e della filosofia che trovate al banchetto e si pongono l'obiettivo di 1000 euro da raccogliere nelle prossime settimane nel Triveneto dove abbiamo un gruppo neonato che è neonato si dice anche in italiano che è presente nelle varie città tra Padova Venezia e Treviso eccetera si pongono l'obiettivo di 400 euro per questa colletta i compagni di Salerno che sono tre compagni che però stanno facendo un grande lavoro di costruzione si pongono l'obiettivo di 130 euro a Bergamo dove di recente sono entrati vari compagni ed è una città che è fortemente industriale in cui stiamo cercando di avviare un lavoro verso le fabbriche della zona e attraverso i giovani con cui siamo entrati in contatto i compagni si pongono l'obiettivo di 350 euro da raccogliere c'è qui anche un'offerta personale di un compagno di Agrigento Vincenzo che si impegna per 30 euro per costruire questa organizzazione la sezione di Modena invece si pone l'obiettivo di 1600 euro a Trieste dove i compagni di recente peraltro sono stati al Revolution Festival e di cui prima ha parlato ha parlato Rob un'esperienza entusiasmante per quanto riguarda la costruzione delle forze del comunismo e hanno appena avviato un lavoro a Gorizia e sono stati fondamentali anche nella costruzione del lavoro in Jugoslavia nell'ex Jugoslavia si pongono l'obiettivo di 1400 euro per la costruzione del PCR a Napoli i compagni si pongono l'obiettivo di ben 3000 euro i compagni di Pavia invece si pongono un obiettivo di ben 800 euro i compagni di Milano si pongono un obiettivo di 10.000 euro di cui hanno già raccolto 2500 a Genova che è una città strategica per quanto riguarda tutto il settore portuale in cui dobbiamo fare un salto di qualità i compagni si stanno ponendo l'obiettivo di ben 700 euro così i compagni di Torino che sono intervenuti il primo maggio con un bellissimo spezzone in difesa dei posti di lavoro che verranno tagliati dal ridimensionamento di Stellantis si pongono l'obiettivo di 700 euro compagni e compagni questo è quello che a livello di ogni città dobbiamo e vogliamo raccogliere chiaramente questo lascia uno spazio a tutti quegli impegni personali che ogni compagno ogni simpatizzante ogni persona che pensa che questo partito abbia le idee in regola per poter effettivamente lottare e combattere al fianco della classe lavoratrice ed armarla dei metodi e delle idee corrette perché possa vincere di ragionare su quanto possa donare alla lotta per il comunismo di quanto possa sacrificare per liberare l'umanità dal lavoro salariato per liberare l'umanità dalle guerre per liberare l'umanità dall'oppressione che viviamo ogni giorno noi oggi abbiamo bisogno di un partito rivoluzionario ci stiamo assumendo la responsabilità di ripulire la bandiera della rivoluzione di alzarla in alto e per questo ogni compagno ragioni e pensi su quanto posso dare se ho pensato 30 do 50 se ho pensato 50 do 80 se ho pensato 80 do 100 perché oggi noi ci stiamo ponendo un compito importante i QR code sono tutti intorno il banchetto è lì i compagni che stanno raccogliendo i soldi sono lì per cui avanti i compagni verso la costruzione del PCR grazie ezzu aggiungo perché è arrivata direttamente a me un'offerta da un compagno che molti di voi conoscono che sta a Parigi Luigi ci manderà 100 euro il totale della colletta naturalmente non può essere comunicato perché è ancora in corso però l'exit poll diciamo è che siamo oltre 34.000 euro di obiettivi impegni già presi dalle zone e abbiamo appena cominciato daremo ulteriori cifre dopo l'intervento del compagno Fred Weston che non vedo più ma che chiamo eccolo qua che chiamo per l'ultimo intervento prima delle conclusioni che farà Alessio Marconi prego Fernando un po' meglio di te compagni io devo dire che questa giornata per me è molto speciale stavo stavo per dire emozionante io ho dedicato un po' di anni ad aiutare a costruire la nostra sezione italiana e vedere tutti questi compagni giovani e meno giovani da tante parti dell'Italia dove una volta avrei sognato avere dei compagni è una soddisfazione che voi non potete immaginare comunque noi stiamo lanciando questo partito il partito comunista rivoluzionario in un momento drammatico a livello mondiale tanti compagni hanno sottolineato gli eventi che si stanno svolgendo abbiamo nel Medio Oriente la possibilità di una guerra regionale una guerra che potrebbe coinvolgere gli Stati Uniti e anche la Nato nell'Ucraina abbiamo il caro Biden che pur avendo perso le elezioni cerca di continuare a aumentare le tensioni internazionali dando a Zelensky il permesso di usare missili a lunga gittata in Russia per ora sembra che lo scopo sia quello di proteggere quell'angoletto di Kursk per eventuali trattative che Trump potrebbe aprire ma ci fa capire una cosa pensate a chi ci governa in questo mondo chi ci sta a governare gente che gioca con la possibilità della terza guerra mondiale io quando vedo queste cose io penso ma te Biden Starmer il cagnolino Meloni che gli va dietro eccetera chi cazzo ti ha dato il diritto di mettere a rischio la vita nostra e dei nostri figli per fortuna almeno non sembra la prospettiva immediata però ci deve far riflettere che questa è la gente che ci governa e un giorno quella che adesso sembra più lontano potrebbe diventare realtà se non cambiamo questo mondo abbiamo in America un Trump che forse si forse apre la trattativa per l'Ucraina ma in Medio Oriente le ultime notizie che ho letto io è che sta giocando con l'idea di permettere a Netanyahu di annettere pezzi della Palestina cioè di togliere al popolo palestinese ancora più territorio questo è la situazione la sinistra ti dico la verità a me la parola sinistra mi comincia a fare un po' schifo perché la sinistra da salotto quella sinistra che si presenta così con giacca e cravatta che magari conoscono anche il miglior vino del momento ma non hanno la minima idea di come vivono i lavoratori di questo mondo questa sinistra è colpevole della situazione che abbiamo di fronte tanta gente quando Trump ha vinto stavano lì a piangere perché oddio che disastro eccetera noi capiamo perché una fetta una parte importante dei lavoratori ha votato Trump io l'ho vista in Inghilterra durante la campagna elettorale di Fiona io ho parlato con dei lavoratori in quel quartiere quando parlavi delle singole cose di casa di salario dell'inflazione dei servizi ti dava ragione su tutto e poi diceva ecco perché io voto Farage e tu dicevi cazzo ci sta da lavorare ci sta da lavorare però ti dà un'idea del perché i lavoratori votano in questo modo stanno cercando qualcuno che gli dà una risposta e questi cosa gli dicono ai lavoratori io ti ridarò i posti di lavoro ben pagati dei buoni posti di lavoro come quelli di una volta del sogno americano del passato noi sappiamo che questo non è possibile ma i lavoratori la massa dei lavoratori la classe operai impara dalla vita dall'esperienza e saranno costretti a vivere questa esperienza ma alla fine trarranno delle conclusioni e quando avranno capito che un Trump e qui in Italia la Meloni e altri non sono in grado di risolvere i problemi come in America hanno abbandonato i democratici abbandoneranno anche Trump e cercheranno un'altra alternativa il nostro compito è costruire quell'alternativa noi ci basiamo su generazioni passate di comunisti italiani che hanno cercato di fare la rivoluzione io a qualche compagno l'ho raccontato mio padre apparteneva alla generazione degli anni 40 si è scritto al pc dopo la guerra e mi ha raccontato un piccolo dettaglio dice nel 48 noi abbiamo fatto una lista dei latifondisti del paese e gli ho detto e che ci volete fare dice eh pensavamo di vincere le elezioni e poi saremmo andati a rastrellarli cioè mi stava dicendo che voleva fare la rivoluzione non era esattamente la linea di Togliatti se non mi sbaglio era un'altra linea i dirigenti comunisti i cosiddetti comunisti hanno più volte fatto compromessi e hanno venduto gli interessi della classe operai l'hanno fatto nel 44 47 e l'hanno rifatto negli anni 70 io ho una lettera se la trovo qua di mio padre che mi ha scritto nel 77 un commento su la situazione politica in quel periodo pensa questo era un comunista che aveva cercato di fare qualcosa di serio negli anni 40 negli anni 70 vede il compromesso storico portato avanti dai dirigenti del PC vi leggo quello che lui mi scrive questa era febbraio del 77 dice riguardo alla politica qui è sempre la solita stava in Italia in quel periodo esponenti del governo sono stati e forse sono ancora i protettori delle trame nere e poi aggiunge fasciste nel caso che io non lo capissi intanto l'MSI si è divisa in due e gli scissionisti si chiamano con un altro nome democrazia nazionale ma ascolta questo ma i partiti di sinistra e dice tranne che piccoli gruppi rimangono sempre soft l'ha scritto in inglese e poi l'ha tradotto pure in italiano nel caso non lo capisse e dice il PC non pensa ad altro che al compromesso storico cioè andare al governo in un'altra lettera mi ha detto guarda ci stanno a fregare una volta quelle che hanno fatto negli anni 40 ce lo stanno a rifare adesso questo mostra che i lavoratori dalla storia imparano qualcosa e l'ha vissuto sulla sua pelle in quello stesso periodo io mi ricordo il partito comunista italiano ha fatto un grande salto in avanti a livello elettorale subito dopo cosa fa? fa l'accordo con Andriotti nel 76 si astiene nel Parlamento e permette al programma di austerità di Andriotti di passare voglio citare un'altra vecchia che ormai non c'è più scusate scusate ma me l'ha detto in dialetto io lo voglio dire in dialetto questa vecchia zia mi dice ha deputato comunista per la prima volta nel 76 spero che mi capite perché non è troppo difficile il nostro dialetto tu che sei comunista mi dice a me rim perché a giaputana ti vota comunista e io avevo non so 18-19 anni e ho pensato c'hai ragione zia che te devo dire però dentro c'avevo una rabbia come dire guarda avete vinto sto voto del popolo che non ti ha mai votato prima adesso che c'è la crisi ti vota e voi cosa fate il compromesso con la democrazia cristiana e infangate il nome del comunismo perché io mi trovo costretto a rispondere a questa domanda di cui io non sono responsabile chiaramente questa storia fa parte del nostro patrimonio compagni noi rivendichiamo la tradizione comunista italiana sin dal 21 quando è stato affondato il partito comunista la lotta dei partigiani la lotta degli anni 40 la lotta dell'autunno caldo la lotta degli anni 70 le rivendichiamo tutte però con un'aggiunta noi capiamo da dove sono nati gli errori di quel periodo gli errori dei dirigenti del partito comunista le teorie staliniste della cosiddetta democrazia progressista la rivoluzione per tappe la rivoluzione democratica che alla fine significava che ogni volta che c'è un potenziale di rivoluzione i comunisti i cosiddetti comunisti frenano noi impariamo la lezione da questo e prepariamo un partito che si basa su queste tradizioni ma con le vere idee del comunismo le idee di Marx le idee di Lenin e prepariamo un partito che possa intervenire nelle lotte dei lavoratori del prossimo periodo e mettere fine a questo ciclo di lotte sconfitte depressione nuove lotte sconfitte basta con questo ciclo è arrivato è arrivato il momento per dire qui c'è il partito che chiuderà questo ciclo e preparare le condizioni per una nuova società questo è il nostro compito compagni avanti nella costruzione del partito comunista rivoluzionario e l'internazionale comunista bene compagni stiamo avvicinandoci alla chiusura prima di dare la parola ad Alessio credo che sia doveroso ringraziare innanzitutto tutti voi che siete venuti qui anche con parecchie peripezie tutti quelli che ci hanno seguito in streaming tutti quelli che ci seguiranno nei prossimi giorni credo che vada dato anche un grazie ai compagni della sezione di Roma che si sono spesi non poco e hanno continuato a farlo nella giornata di oggi per accogliervi nella sede chi ha potuto passarci per garantire la gestione di questa sala ai compagni che hanno gestito i banchetti e ai compagni del servizio d'ordine insomma tutti quelli che hanno lavorato per far sì che questa giornata riuscisse meravigliosamente come stiamo vedendo tutti noi senza perdere altro tempo chiamo Alessio Marconi per l'intervento conclusivo di questa assemblea grazie ragazzi ma troppa tecnologia che cosa posso dire dopo un'assemblea così dico quello che dicono gli occhi di tutte le persone in questa stanza che meraviglia che assemblea meravigliosa che abbiamo fatto è vero o no? non amo le esagerazioni non amo la facile retorica credo che una certa sobrietà e un senso delle proporzioni siano qualità importanti nella vita come nella politica rivoluzionaria però sono assolutamente certo che questa assemblea segna un momento storico un momento che verrà ricordato da chi è in questa sala ma non solo perché è un salto di qualità è un salto di qualità nella costruzione di un'alternativa politica in questo paese che si inscrive in un salto di qualità che i marxisti rivoluzionari comunisti stanno facendo a livello internazionale lo si capisce guardando questa questa sala ma io credo che lo potremo apprezzare veramente nei mesi e negli anni che abbiamo davanti a noi che sarà quando saremo chiamati a dimostrare nei fatti la correttezza della nostra prospettiva marx lo spiegava nella tesi su Feuerbach che la verità del pensiero umano in ultima analisi si dimostra nella pratica ecco questo partito lo dimostrerà nella pratica i compagni posso dirlo non vediamo l'ora di farlo e siamo sicuri di riuscirci perché noi non lanciamo un partito oggi non lanciamo il PCR per una scelta arbitraria non ci siamo svegliati non siamo abbiamo messo il piede giù dal letto abbiamo deciso che oggi facciamo un partito e non siamo di quelli che si inventano un nuovo nome a ogni cambio di stagione e ce ne sono ce ne sono non siamo affetti da questa strana patologia del nuovismo anzi rivendichiamo le nostre radici abbiamo delle fondamenta che vanno molto in profondità lo si diceva all'inizio vanno in profondità nelle idee del marxismo del marxismo autentico del vero marxismo nella lunga storia del movimento operaio nella tradizione delle grandi rivoluzioni a partire è stato detto ma lo voglio ripetere dalla rivoluzione russa del 1917 che resta per noi un modello ispiratore il più grande evento della storia umana il più grande evento della storia umana spero di poter dire sinora queste idee che alcuni ci hanno detto per decenni che erano vecchie mi sembra che stiano reggendo alla prova della realtà un po' meglio di quelle di chi ce lo diceva e non è un caso se oggi assistiamo a un ritorno a queste idee specialmente fra le nuove generazioni che guardano con i propri occhi la crisi di questo sistema e cercano un'alternativa e dove la trovano dove non nel ciarpame ideologico che è stato prodotto negli ultimi 20-30 anni che infetta tanto del dibattito politico e accademico ma lo ritrova nelle idee di Marx di Engels di Lenin di Trotsky parlava Ezzu il nostro responsabile del fondo di lotta i dati di vendita dei nostri libri dei classici del marxismo stanno lì a dire della ricerca di queste idee noi le rivendichiamo queste idee come base le nostre radici e le nostre fondamenta e rivendichiamo un'altra cosa rivendichiamo il lavoro instancabile controcorrente sì di costruzione che è stato fatto su queste idee per costruire una forza organizzata marxista in Italia e nel mondo è stato questo lavoro che ci ha portato fin qui che ci permette oggi di intraprendere questo passo e allora perché lanciamo un nuovo partito perché è una necessità perché a fronte della più grande crisi della storia del capitalismo non c'è uno straccio di alternativa credibile non c'è sembra assurdo eppure è così se ci guardiamo intorno e allora compagni con senso delle proporzioni però ci prendiamo la responsabilità di costruire questa alternativa e siamo fieri e siamo orgogliosi di dire che da oggi chi la cerca la potrà trovare nella bandiera nelle idee nei militanti del partito comunista rivoluzionario in questo paese ci impegniamo noi a costruirla e chiediamo a tutti di costruirla insieme a noi perché questo è un inizio di una strada che sarà lunga e faticosa ma che è necessario e che sarà molto soddisfacente per correre qualcuno dice che i comunisti sono estremisti pazzi estremisti a me compagni sembra che siamo gli unici ragionevoli rimasti in sto mondo c'è 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 un vecchio signore che casualmente ricopre la carica di presidente degli Stati Uniti d'America la mattina devono controllare e si ricorda bene tutto che di fatto è stato dimissionato dalle ultime elezioni e appena autorizzato a usare i missili a lunga gittata contro la Russia senza nessuna ragione strategica dal punto di vista militare e poi siamo noi pazzi siamo noi gli estremisti ci sono cataclismi ambientali come a Valencia l'abbiamo visto intere aree del pianeta che vanno verso la desertificazione vengono abbandonati se mai ci sono stati tutti i piani di riconversione energetica l'ultimo vertice della COP29 è stata una barzelletta cioè non c'era niente a parte che lo facevano in un paese che stava trivellando come se non ci fosse un domani durante cioè appena fuori dalla sala dove si stavano riunendo e la cosa più lunga di quel vertice era la lista delle assenze cioè non c'era nessuno questo sistema è completamente irrazionale lo vediamo tutti i giorni ma questo è ha un'irrazionalità peraltro di fondo il capitalismo è il primo sistema nella storia dell'umanità che va in crisi non per scarsità ma perché produce troppo attenzione non troppo rispetto a quello che sarebbe necessario troppo rispetto a quello che si può comprare perché sprofonda nella miseria la maggioranza della popolazione questo sistema produce oggi cibo per 10 miliardi di persone ma leggevo ieri gli ultimi dati 733 milioni di persone nel mondo sono denutrite 150 milioni di persone in più rispetto al 2019 quindi anche le favolette no si qualcosa va male ma poi col tempo migliora non è così peggiorano e che cosa fanno con questo cibo preferiscono lasciarlo marcire preferiscono distruggerlo piuttosto che distribuirlo perché il mercato non può risentirne il mercato è più importante si diceva prima della crisi abitativa che c'è in questo paese lo sa chiunque vive in una grande città in Italia ma non solo in Italia ci sono censite 7 milioni di case sfitte prevalentemente proprietà delle grandi immobiliari e della chiesa veniva ricordata ma preferiscono tenerle vuote pur di non far scendere i prezzi di mercato questo sistema non ha logica altro che estremisti noi o meglio ha una logica una logica perversa la logica della classe dominante una piccola minoranza di parassiti fatemelo dire non per turpilo una definizione scientifica il parassita quella bestiola che si attacca e succhia quello che viene prodotto dagli altri di parassiti che sta accumulando una ricchezza senza precedenti nella storia umana sfruttando il lavoro altrui gettando miliardi di persone nella fame nella miseria negando diritti fondamentali riportando veniva detto la distruzione della guerra in intere aree del pianeta gente che mentre Valencia veniva allagata impediva ai lavoratori di lasciare il posto di lavoro la manifestazione che c'è stata due settimane fa la gente che scendeva in piazza dicevano non sono mortos sono assassinatos sono stati uccisi non sono morti accidentali sono stati uccisi dalla logica perversa di questo sistema mi ricordava una cosa fortunatamente oddio è brutto fare le proporzioni sulle cifre di queste cose mi ricordava quei giorni a Bergamo all'inizio della pandemia quando la confindustria locale si rifiutava a tutti i costi di chiudere i posti di lavoro anche se era evidente che l'avrebbero pagato i lavoratori con le loro vite questa è la logica c'è una logica in questa follia come si dice la logica perversa di questo sistema compagni comunisti davanti a questa situazione presentano l'unica opzione ragionevole ragionevole vanno tolte le leve del potere e dell'economia da queste persone è una questione di sopravvivenza le risorse naturali le risorse produttive le grandi banche le grandi aziende le infrastrutture vanno prese rese pubbliche e fatte operare in modo razionale secondo un piano che sia gestito dai lavoratori per l'interesse dei lavoratori a livello internazionale è un'idea semplice se ci pensiamo quando la spiego ai miei figli che sono piuttosto piccoletti non hanno nessuna difficoltà a comprenderla poi più vai avanti più ti riempiono la testa che no perché la domanda l'offerta il mercato le leggi le gol e sembra che sia impossibile da fare però è estremamente semplice in profondità qual è il vero problema è che violerebbe l'unico vincolo sacro del capitalismo che è il sacro idolo della proprietà privata dei mezzi di produzione ci sono i diritti ci sono tanti diritti la rivoluzione francese ci ha omaggiato di tanti diritti tuttavia nel capitalismo questi diritti valgono fin tanto che non si scontrano direttamente con l'unico vero diritto che viene fatto valere in questa società che è quello della proprietà privata in particolar modo della proprietà privata dei grandi mezzi di produzione ma chi è che ha costruito questa ricchezza vorremmo chiedere noi Vincenzo lo ricordava intanto che alcune di queste grandi aziende sono state pagate e ripagate non so quante volte dai soldi pubblici la Fiat è un esempio la Fiat è stata salvata costruita e ricostruita con i soldi dei contribuenti e quindi dei lavoratori italiani l'ILVA la stessa storia si prende si salva si regala e poi una volta che prendono i soldi e scappano torna a essere una spesa pubblica però compagni anche quando non ci sono i soldi pubblici le grandi fabbriche le grandi aziende le grandi opere non le fanno i consigli di amministrazione le fa il lavoro vivo di chi ci spende la giornata lì dentro questa è la verità è per questo che noi rivendichiamo semplicemente di riprenderci quello che è nostro che è il prodotto del lavoro della classe lavoratrice le loro imprese le loro aziende le loro conquiste io ci ho pensato un po' se era il caso di farlo in questa sede però vorrei leggervi una poesia rubando spero di non fare troppo torto a una bellissima poesia leggendola per in maniera dignitosa che però dice molto su di chi siano queste grandi imprese la poesia è di Brecht e si chiama domande di un lettore operaio e così recita tebe dalle sette porte chi la costruì ci sono i nomi dei re dentro i libri sono stati i re a strascicarli quei blocchi di pietra Babilonia distrutta tante volte chi altrettante la riedificò in quali case di Lima lucente d'oro abitavano i costruttori dove andarono la sera che fu terminata la grande muraglia i muratori Roma la grande è piena di archi di trionfo su chi trionfarono i cesari la celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti anche nella favolosa Atlantide la notte che il mare li inghiottì affogavano urlando aiuto ai loro schiavi il giovane Alessandro conquistò l'India da solo Cesare sconfisse i galli non aveva con sé nemmeno un cuoco Filippo di Spagna pianse quando la flotta gli fu affondata nessun altro pianse Federico II vinse la guerra dei sette anni chi oltre a lui l'ha vinta una vittoria ogni pagina chi cucinò la cena della vittoria ogni dieci anni un grand'uomo chi ne pagò le spese quante vicende tante domande tante domande strumenti che ha la classe dominante e credo che prima abbiamo parlato dei giornali sia un'opera importante quella di scrivere anche la storia delle classi oppresse perché è lì che affondano le radici di questo partito così nuovo che stiamo lanciando oggi la gloriosa repubblica romana con i suoi archi di trionfo a tanti eroi che ci vengono raccontati a scuola c'è un bel libro che non abbiamo ancora tradotto che ha scritto Alan Woods sulla storia della lotta di classe nella repubblica romana che ha un capitolo che penso che tutti dovrebbero leggere sulla rivolta degli schiavi di Spartaco che mise in ginocchio le potenti armate della repubblica che partendo da 70 schiavi raccolse un esercito di 100.000 e fece tremare il grande potere di Roma quelle sono le nostre radici quelli sono i nostri eroi che ispirano l'attività dei rivoluzionari lo facevano ai tempi di Rosa Luxemburg e Carl Ipnet e lo fanno e lo fanno ancora oggi la violenza quella rivolta finì con 6.000 schiavi crocifisse lunga tutta la via la via appia da Capua fino a Roma perché per dare un segnale sì ma per una ragione più profonda perché avevano paura perché avevano visto che tutto questo potere si reggeva fin tanto che non ci fosse una rivolta una ribellione è la stessa paura che si nasconde quando portano avanti le misure di repressione è la paura di perdere il controllo e la violenza a volte dicono ah ma voi la rivoluzione la violenza non c'è violenza maggiore nella storia di quella che è stata fatta dalle classi dominanti per mantenere il loro potere ci parlano oggi della violenza guardate a Gaza la violenza 45.000 non contano quelli sotto le macerie non contano tutti gli altri con la crisi che stanno causando lì questo è un sistema che merita di essere rovesciato questo è un sistema che va abbattuto e io sono convinto che non è che lo stiamo dicendo qui in questa sala ma è una consapevolezza che si sta diffondendo sempre di più nella società certo probabilmente senza un'idea chiara di quale possa essere l'alternativa e quale possa essere il modo per farlo ma è un sentimento che sta diventando un sentimento di massa a differenza del primo secolo avanti Cristo dove non c'erano un livello di sviluppo delle forze produttive e non c'era un proletariato come quello che c'è oggi per costruire una società diversa oggi questo c'è ed è la forza su cui noi ci basiamo noi non siamo un'organizzazione di massa abbiamo un patrimonio molto importante che mettiamo che investiamo in questo progetto politico ambiamo a crescere e siamo certi che lo faremo ma soprattutto noi ci basiamo su una forza che non ha concorrenti nel capitalismo che è la forza della classe lavoratrice la forza sociale più grande che esista al mondo compagni non esiste una forza maggiore di questa nella società tutto ciò che noi abbiamo intorno è frutto del lavoro umano dell'opera della classe lavoratrice con buona pace dei operaisti post operaisti tanti che ci hanno spiegato che non c'era più la classe lavoratrice che c'è general intellect che c'è ci sono dei dati che viaggiano nell'etere che nasce tutto non si capisce se così fosse perché sarebbero così preoccupati ogni volta che viene convocato uno sciopero sono lì a correre per dire come facciamo a non farli scioperare ma non ci sono più la verità è che la classe dominante la classe dominante ha più contezza ha più consapevolezza dell'importanza e della forza della classe lavoratrice rispetto ai dirigenti riformisti e sindacali e si inventa tante cose tante cose leggevo l'altro giorno ho imparato un nuovo termine leggevo la questa questa ma che sono raccomandazioni della commissione di garanzia sugli scioperi il nuovo termine c'è lo sciopero a scacchiera lo sciopero a gatto selvaggio c'è lo sciopero rarefatto perché ho appreso che in questo paese esiste un principio che è il principio della rarefazione degli scioperi non so se sia un nuovo stato di aggregazione della materia per cui legge dice ma anche accordi peraltro sottoscritti fra le parti che lo sciopero sì ma solo se non dà troppo fastidio che mi permetto di dire non si capisce più allora perché si sciopera se non devo dare fastidio essendo quello mi risulta l'obiettivo fondamentale di uno sciopero l'anno scorso si è piegata la CGL quest'anno un po' sì un po' no adesso vedremo che cosa farà però a me questo interessa relativamente vi devo dire in questo momento perché ho l'impressione e compagni con cui discuto me lo confermano che quello che sta cambiando sia la la sensazione l'ambiente il sentimento fra almeno fra settori dei lavoratori prima qualcuno diceva dello sciopero del trasporto pubblico locale quel giorno sono andato in un deposito a Milano che non citerò per non compromettere nessuno e compagni l'impressione sinceramente era che fosse un ambiente diverso perché se gli anni prima la pressione stava su quelli che scioperavano che erano visti un po' come dire vabbè ma che cosa scioperi a fare è finto tanto alla fine non portiamo a casa niente quest'anno mi è capitato di assistere a una scena devo dire piuttosto piacevole perché a un certo punto è passato un autobus che era l'unico autobus che era uscito da quel deposito ed è stato amabilmente salutato dai lavoratori in sciopero di tutto il deposito che hanno fatto valere una certa diciamo così pressione forza di convinzione argomenti molto validi non è che ci fosse una particolare illusione rispetto alla grande strategia dei vertici sindacali questo rimane però c'era la voglia di dimostrare che si poteva veramente fermare e questo era diverso e non è un caso che che poi anche la nostra stampa abbia avuto una certa diffusione e che abbiamo avuto delle discussioni molto molto interessanti e mi permetto di dire che discutevo proprio con uno di questi lavoratori spero che ci stia ascoltando che parlava della precettazione e quando è arrivata la notizia gli ho detto ma il sindacato dovrebbe dire che se ci precettano un giorno noi ci operiamo per una settimana per fargli cambiare idea e lui ha detto beh esattamente quello che ho detto al funzionario quando mi ha spiegato la situazione a Milano ci fu uno sciopero molto interessante nel 2003 era inverno ricordo il motorino con la neve era tutta la città paralizzata da questo sciopero assolutamente incontrollato ma non è solo lì venivano citate prima diceva Vincenzo sulla situazione due anni fa non sarebbe successa la stessa cosa in Stellantis scioperi scioperi i compagni i compagni di Siracusa lo sciopero che c'è stato nell'area della raffineria di Priolo i compagni lo consideravano una cosa praticamente impossibile fino all'ultima discussione che avevamo fatto subito prima subito prima dell'estate vedremo non è che mettiamo noi l'agenda ai lavoratori la classe lavoratrice a un certo punto si muove quando maturano una serie di condizioni però per me è un sintomo di un processo profondo che si sta sviluppando e che lega si lega alle tradizioni migliori della lotta di classe di questo paese dove peraltro non sono stati necessariamente i battaglioni pesanti a muoversi per primi vorrei ricordare che nel 68 prima dell'estate in una fabbrica che veniva tessile che veniva considerata da tutti arretrata politicamente a un certo punto per una lotta contro dei licenziamenti e l'intervento della polizia la coscienza dei lavoratori fece un balzo e una statua del signor Marzotto volò per terra e fu un segnale anticipatore l'inizio di una stagione che ha cambiato per sempre la situazione politica e sociale di questo paese io credo che nei prossimi anni voleranno tante statue in questo paese e non solo in questo paese c'è un problema enorme sì c'è un problema della direzione lo dicevo prima la classe dominante è molto più consapevole dei dirigenti riformisti di quello che possono fare i lavoratori questi dirigenti è impressionante partono sconfitti in guerra il morale la convinzione dei generali ha una certa importanza partono sconfitti e poi dicono c'è sfiducia non c'è il clima la coscienza è arretrata ve lo faranno vedere mi permetto di dire a un certo punto i lavoratori la coscienza è arretrata però c'è c'è una razionalità in questa cosa ma la razionalità non è una questione psicologica alla fine è è una diciamo è un'applicazione del riformismo perché se tu parti in una società basata su uno scontro fra le classi accettando le regole del funzionamento del sistema dettate dalla classe dominante compagni è come combattere con le mani legate dietro la schiena è la base peraltro prima veniva detta la politica dei sacrifici l'austerità facciamo i sacrifici perché così l'economia funziona e se l'economia funziona poi qualcosa arriverà anche ai lavoratori bene dopo 40 anni abbiamo visto dove siamo finiti questa idea però non ha più nessuna base materiale questo è questo è il punto e ci parlava Landini il modello tedesco ma vediamo Volkswagen dov'è il modello tedesco una piacevole cogestione mi sembra improvvisamente hanno detto sapete che c'è gli accordi saltano tutti e magari dobbiamo chiudere tre fabbriche devo dire che anche lì l'ultima notizia che ho visto è che i dirigenti della IG Metall mettono sul piatto 1,5 miliardi di euro di salari dei lavoratori per evitare le chiusure le chiusure delle fabbriche ma credo che anche lì i lavoratori avranno qualcosa da ridire mentre i 10 membri del consiglio di amministrazione di quell'azienda hanno guadagnato 40 milioni di euro nel 2023 questo è un dato che forse vale la pena sapere diciamo per fare tutto il quadro lo stesso nel movimento giovanile manca completamente un punto di riferimento e un'alternativa serve una direzione all'altezza serve un programma una strategia un metodo di lotta e questo è il senso di un partito che come diceva qualcuno non è cosa semplice qualcosa ci hanno raccontato i compagni oggi l'intervento di Christian ha raccontato un lungo lavoro di costruzione in UPS io compagni permettetemi di dire Christian ha detto che che ha imparato tante cose che impara tante cose da questa organizzazione ne sono felice penso di poter dire che questa organizzazione sicuramente io imparo un sacco di cose ogni volta che parlano questi compagni ed è motivo d'orgoglio per noi avere questi compagni nella nostra organizzazione gli appalti non è possibile organizzarsi negli appalti perché c'è l'esternalizzazione quante volte ce lo siamo sentiti dire dalle direzioni sindacali a quanto pare è possibile se si arriva lì con le idee chiare e con la voglia di farlo a quanto pare è possibile credo che dovremmo scrivere qualcosa sulla storia del lavoro che è stato fatto in tutti questi anni in UPS perché in tante diffusioni nei posti di lavoro tanti lavoratori dicono è giusto ma come si fa come si può fare un esempio come questo credo che vada valorizzato è un lavoro sindacale è un lavoro anche politico come diceva Marx nel manifesto ogni tanto vincono gli operai ma solo transitoriamente il vero e proprio risultato delle lotte non è il successo immediato ma il fatto che l'unione degli operai si estende sempre di più questo penso che ci dica sulla fase che abbiamo davanti un lavoro paziente instancabile controcorrente c'è un'apparente contraddizione noi andiamo controcorrente nel 90% dei casi tuttavia in senso più profondo noi siamo nella corrente generale della storia e quindi questo lavoro che conduciamo è non solo necessario ma al momento decisivo beneficerà dello sviluppo generale della lotta della lotta di classe è per questo che serve un'organizzazione collettiva e chi milita in questo partito milita o entra a militare in un'organizzazione collettiva che combatte il capitalismo in tutto il mondo può attingere a un patrimonio inestimabile di idee innanzitutto di teoria di elaborazione internazionale di esperienze che non ha uguali che non troverete da nessun'altra parte non lo dico perché ci vogliamo dare delle aree ma perché bisogna dire la verità l'internazionale comunista rivoluzionaria vuole essere il partito della rivoluzione mondiale questo è l'obiettivo costruire questo partito e sono certo che lo sarà non è un feticcio il partito è un corpo vivo di militanti di idee che discute niente di simile alle caricature burocratiche che pure fanno parte di un pezzo della storia del movimento operaio e qual è questa corrente della storia noi compagni e questa è l'ultima cosa che dico siamo entrati in un'epoca di instabilità senza precedenti dal punto di vista economico politico sociale militare ambientale la vittoria di trump la vittoria di trump mette dinamite nelle basi degli stati uniti vedremo non ci vorrà molto per vedere la risposta pensiamo a black life matter pensiamo alle donne pensiamo alla lotta di classe Valencia il Medio Oriente abbiamo visto crisi rivoluzionarie abbiamo visto gli operai della Foxconn sono i sintomi di un sistema in crisi compagni il partito comunista rivoluzionario lotta per ogni miglioramento nelle condizioni di vita dei giovani e dei lavoratori lotta contro ogni forma di oppressione e lega indissolubilmente queste battaglie all'obiettivo di rovesciare il sistema capitalista una volta per tutte per qual è il nostro obiettivo per approdare a una nuova società come diceva Marx alla vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi fra le classi subentra un'associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione per il libero sviluppo di tutti compagni questa società è il comunismo e noi non lottiamo per nulla di meno il futuro è nostro compagni in alto le bandiere viva il partito comunista rivoluzionario viva l'internazionale comunista rivoluzionaria viva la classe operaia mondiale grazie Grazie. 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 Grazie.